Buon pomeriggio, grazie di essere presenti. Questo è il primo incontro organizzato da Cliniche Italiane di Psicoterapia ed è un momento formativo rivolto a tutti gli operatori, medici, psicologi, terapisti della riabilitazione. L'incontro di oggi quindi ha come titolo La rabbia e la voglia di non pensarci, aspetti processuali nel trattamento della disregolazione emotiva. L'obiettivo di questo incontro è cominciare, diremmo primo incontro, ma già dare una buona analisi di quanto il modello sui disturbi di personalità, di studi cognitivi, anche perché appunto Cliniche Italiane di Psicoterapia ha programmato, organizzato e sta realizzando un centro proprio dedicato ai disturbi di personalità. Quindi in questo pomeriggio abbiamo l'onore di avere con noi la dottoressa Sassaroli. Dottoressa Sassaroli la conoscete tutti e comunque ha lei il dovere di presentarla come psichiatra e psicoterapeuta, direttore di studi cognitivi, della scuola di specializzazione e anche di Cliniche Italiane di Psicoterapia. E avrà il primo intervento su che cos'è la libete, qual è la sua utilità. Il secondo incontro, anche se in questo momento assente, del dottor Ruggero Giovanni, Giovanni Ruggero, psichiatra e psicoterapeuta, direttore di psicoterapia cognitiva e ricerca e responsabile della ricerca, del gruppo della ricerca di studi cognitivi. L'ultimo intervento della giornata intervento sul tema è del dottor Caselli, Gabriele Caselli, psicologo psicoterapeuta, il titolo del, e lui è vice direttore del dipartimento di psicologia del Sigmund Freud, dell'Università di Milano e direttore della scuola di psicoterapia e scienze cognitive. Il titolo della relazione dell'intervento del dottor Caselli è Rimuginio e regolazione cognitiva nei disturbi di personalità. Finisce il pomeriggio la dottoressa Brugnoni. L'Alessandra Brugnoni è clinica psicologo-psicoterapeuta, lavoro come clinica nella sede del centro clinico di studi cognitivi di Modena ed è la referente del centro clinico di cliniche italiane di psicoterapia. Io non mi sono presentata perché non mi davo per scontato in questi, devo dire che ultimi periodi presento molti di questi incontri, sono Daniela Rebechi e sono la responsabile della sede di Modena di studi cognitivi. Dopo questa presentazione, brevissima, ma credo che il pomeriggio sia abbastanza intenso perché le relazioni sono tre relazioni abbastanza corpose di un'oretta in cui alla fine di ogni relazione, schiedo di, io mi organizzerei così, alla fine di ogni relazione facciamo, se non avete degli intermezzo in mezzo, una chat, le domande su cui voi avete una chat, chi non è esperto del webinar, dove potete porre quindi le domande di quesiti, interrogazioni e riflessioni ai vari relatori che si susseguono nel pomeriggio. Quindi l'intervento della Sassaroli, la chat, le varie chat in cui dibattiamo e discutiamo l'intervento, così dopo quella del dottor Ruggero e infine del dottor Caselli e della dottoressa Brugnoni che ci presenterà appunto il centro di disturbi di personalità di Modena e l'equipe degli professionisti che ci lavorano. Io quindi lascio la parola alla dottoressa Sassaroli. Grazie. Mi sentite? Sì. Ok. Allora, aspettate un attimo che devo fare share screen e non vedo nulla, ovvio. È sempre così. L'avevo preparata, l'avevo aperta. E qui, eccola. Perché non vedo nulla? Gabriele, aspetta un attimo. L'hai aperto sotto il slide? Sì, è aperto. Ma... Adesso ho uno... Cerco, cerco... No... E quindi non capisco... Va bene, devo cambiare computer. Gabriele? Gabriele? Te la senti di cominciare te? Cambio computer? Per me non c'è nessun problema. Eh? Perché è questo qui il computer, dopo che ieri l'ho buttato per strada. È quello nuovo. Non capisco perché non mi fa share. Ma se tu fai share screen, non ti vengono fuori le slide? No, lo faccio 30 volte al giorno, no. Adesso me ne vado un attimo e vado sull'altro computer. Quindi, allora, cambio di programma. La relazione che verrà presentata ora ora, sempre sul tema della rabbia e la voglia di non pensarci, è quella appunto del dottor Caselli. Rimuginio e regolazione cognitiva nei disturbi di personalità. Quindi lascio la parola a Gabriele. E a voi l'ascolto. Buongiorno a tutti. Allora, vediamo se... Ok, si vede? Sì, sì, perfetto. Bene. Allora, io oggi sono stato invitato e sono contento di parlare di questo tema che mi è piuttosto caro in una prospettiva anche abbastanza innovativa, che è quella dell'area dei disturbi di personalità, su cui le cliniche italiane di psicoterapia di Modena si stanno focalizzando. Poi Alessandra racconterà in che modo verrà inserito l'intervento o gli interventi connessi a Rimuginio all'interno del programma clinico di questo servizio. Il mio compito è cercare di introdurre il senso di questo genere di intervento clinico applicato a quest'area psicopatologica, che noi sappiamo essere particolarmente diffusa e particolarmente problematica da gestire. Rimuginio e gli interventi connessi a Rimuginio si sono focalizzati per lo più nell'area dei disturbi d'ansia e della depressione, almeno inizialmente. Rimuginio in senso ampio, in particolare connessi alle forme di Rimuginio ansioso e di ruminazione depressiva. Ma poi nel corso degli ultimi anni hanno mostrato evidenze significative anche all'interno del mondo dei disturbi di personalità, in particolare dell'area del disturbo borderline, e sia da un punto di vista applicativo, ma prima ancora da un punto di vista puramente teorico. Facendo un po' di premesse che magari per molti di voi possono essere considerate abbastanza scontate, ma giusto per cercare di delineare quello che è la linea logica della riflessione che ho fatto nel comporre queste slide. Noi sappiamo che i disturbi di personalità sono una categoria particolare. Nel corso delle prime edizioni del DSM, i disturbi di personalità addirittura nel DSM IV erano classificati in un altro asse psicopatologico per marcare la differenza delle loro caratteristiche espressive e che si rifanno al costrutto psicologico di personalità, inteso come stile persistente che governa il modo in cui pensiamo, sentiamo, percepiamo e agiamo. E quindi è un costrutto, se vogliamo, onnicomprensivo, quello di personalità, che rappresenta e definisce le caratteristiche intrinseche del modo in cui una persona si mostra al mondo e ai propri stati interni. Quando, come dire, entra nel campo della psicopatologia, viene definito come un pattern costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo. È pervasivo, è stabile nel tempo, tendenzialmente rigido, ha un esordio che si caratterizza, perché è lì che si caratterizza l'identità della persona intorno alla tarda fase adolescenziale, della prima età adulta, e determina disagio o menomazione nel funzionamento psicosociale dell'individuo. Ora, noi, il disturbo di personalità è un'etichetta, possiamo dire, abbastanza scomoda, da attribuire e da ricevere, perché in qualche modo lo stesso termine di persona, il stesso concetto di personalità, così come è definito da un punto di vista psicologico, è facile che venga identificato con la persona e che quindi il disturbo di personalità venga facilmente tradotto, passatemi il termine, in un concetto di persona disturbata in senso globale, in termini anche di giudizio negativo su di sé. Ci pone conseguentemente anche una questione delicata, sia rispetto alle caratteristiche della diagnosi, che ha poi tutta una serie di problemi che conosciamo bene noi clinici, per come viene formulata nel DSM, su cui non mi dilungo, ma soprattutto nel definire quella che è l'area di confine tra, come dire, il concetto di, scusate ma non compare, volevo vedere una cosa, che non si vede questo, andiamo. Ecco, non mi comparivano i contenuti di questo slide, non compaiono, questa la tengo così poi ritornerò alla presentazione globale. Dicevo, ci sono una serie di questioni problematiche che hanno a che fare soprattutto sul delineare il confine tra una personalità sana e una personalità disturbata. cioè, quando è che noi smettiamo di parlare di un tratto di personalità che può essere anche, se vogliamo antipatico, mostrare le sue spigolature, essere non propriamente estremamente adatto a certi contesti, quando questo diventa un disturbo di personalità. Normalmente noi abbiamo alcuni indicatori dimensionali che consideriamo come, come dire, linee di demarcazione di questo confine, senza contare che i tratti di personalità possono essere essi stessi anche quelli che costituiscono un disturbo in parte in alcuni contesti di fatto funzionali. Basti pensare all'utilizzo della diffidenza in certi contesti politici o economici o gerarchici o aziendali. possono essere anche funzionali alla protezione di sé, la loro manifestazione estrema in termini di paranoia può diventare un ostacolo insormontabile per le persone che ne soffrono. Questi due assi sono l'asse della consapevolezza, sappiamo che i disturbi di personalità sono caratterizzati da una tendenza all'egosintonia, quindi le persone riconoscono questi tratti come parte di sé e non sono consapevoli della propria natura o limitatamente consapevoli della propria natura disfunzionale e un problema, un asse legato al concetto di regolazione, cioè le espressioni di questi disturbi di personalità sono rigide, inflessibili e indipendenti dai contesti, non vengono modulate in relazione ai diversi contesti di vita delle persone, quindi la diffidenza diventa una diffidenza estesa quando è problematica a tutte le aree di vita, anche rispetto alle aree per esempio più intime e indipendenti da quelli che sono gli scopi rilevanti per la persona. Quindi questi sono i due, come dire, assi di riferimento che però non ci aiutano in modo chiaro a comprendere nei dettagli come avviene questa trasformazione da tratto di personalità a vero e proprio disturbo, cioè cos'è che produce e che sostiene un'egosintonia, quindi una scarsa consapevolezza o un problema di regolazione, quindi un'estrema rigidità. Venendo al disturbo borderline di personalità in particolare, che è quello di cui si è parlato di più nel corso degli anni, anche da un punto di vista scientifico, noi sappiamo, giusto per citare le sue caratteristiche principali, che esistono molti tipologie di pazienti borderline, in generale hanno alcune caratteristiche più o meno sempre presenti, hanno relazioni interpersonali caotiche e instabili, una tendenza all'instabilità emotiva, problemi di controllo degli stati emotivi, e manifestazioni espressive delle proprie emozioni disregolate o comportamenti impulsivi, un senso di identità tendenzialmente instabile, sentimenti di vuoto e comportamenti impulsivi che possono essere sia etero che autodiretti, quindi una varietà piuttosto ampia di manifestazioni. Sappiamo che l'approccio teorico di riferimento a oggi per la comprensione e il trattamento del disturbo borderline di personalità è il modello biopsicosociale di Marshall Inean, il quale sostiene sostanzialmente, da un punto di vista generico, teorico e logico, che l'interazione tra due elementi cardine, che sono un ambiente invalidante, cioè un ambiente di crescita e di sviluppo in cui l'espressione delle emozioni è sostanzialmente inappropriata ed estrema da parte delle figure di riferimento, che si traduce anche in un insegnamento di un rapporto disfunzionale con i propri bisogni e con le proprie emozioni e con l'espressione delle proprie emozioni si incrocia con una predisposizione biologica caratterizzata da una certa instabilità e variabilità emotiva di natura temperamentale, genererebbe, perché siamo sempre nel computo delle teorie, una maggiore predisposizione a quello che Marshall Inean considera uno dei cuori pulsanti della manifestazione psicopatologica di questo disturbo, cioè il concetto di disregolazione emotiva. Disregolazione emotiva che è un costrutto lasso, abbastanza lasso, che ha ricevuto molteplici concettualizzazioni, di certo dal mio punto di vista, questa è la mia opinione, Marshall Inean fa uno sforzo di operazionalizzazione definendo la disregolazione emotiva lungo tre assi, da un lato come alta sensibilità agli stimoli emotigeni, quindi una tendenza ad avere una risposta molto rapida anche a stimoli emotigeni sostanzialmente poco intensi o poco rilevanti o meno rilevanti, un'esperienza di emozioni particolarmente intense rispetto alla media e un lento ritorno alla baseline dell'attivazione emotiva, quindi una lentezza nel processo di autoregolazione delle emozioni una volta che sono scattate. E questa disregolazione emotiva porterebbe o faciliterebbe in qualche modo lo sviluppo di comportamenti impulsivi e quindi dalla disregolazione emotiva dipenderebbe una forma di disregolazione comportamentale. Ora i link tra i punti di riferimento del modello biopsicosociale, la disregolazione emotiva e la disregolazione comportamentale sono dei link che da un punto di vista teorico e psicopatologico devono essere ancora compresi in modo esplicito e dettagliato. Sono dati un po' per scontati, ma lasciano aperte alcune domande interessanti per noi e per lo sviluppo, credo e crediamo, della psicoterapia per questi pazienti. Per questo ciò senza togliere il fatto che oggi sicuramente la DBT è uno dei trattamenti che ha i dati più consolidati a supporto dell'intervento con questo tipo di disturbi. Quindi da questi punti di domanda derivano, da questi interrogativi derivano delle domande specifiche. Per esempio, quali sono i meccanismi che sostengono, a partire da questa interazione tra ambiente e temperamento, che sostengono lo sviluppo e il mantenimento di un certo grado di disregolazione emotiva o che ostaconano l'apprendimento di una regolazione emotiva che è quella che accade a tutti noi che nel corso degli anni siamo disregolati da fangiulli ma poi impariamo in qualche modo a modulare le nostre emozioni. E come la disregolazione emotiva determini o influenzi la disregolazione comportamentale. Questo ha fatto sì che a partire dai primi anni 2000 a queste domande si è cercato di dare una risposta andando a chiamare in causa i cosiddetti processi di regolazione cognitiva, cioè le modalità con cui le persone si abituano, magari senza anche esserne pienamente consapevoli, a reagire agli propri stati interni, organizzando e coordinando e controllando le proprie risorse attentive di pensiero in una certa modalità. Questa è stata, poi lo spiegheranno sicuramente Sandra e Giovanni meglio di me, uno dei punti di evoluzione delle terapie cognitivo-comportamentali in senso ampio e cioè la cosiddetta svolta processualista, la maggior attenzione ai processi cognitivi e attentivi piuttosto che ai loro contenuti. Considerando e definendo la regolazione cognitiva come la capacità di agire sulle proprie operazioni mentali, cioè la capacità di scegliere quanto indugiare su certi pensieri, se pensarono a qualcosa, a cosa prestare maggiormente attenzione, quali stimoli sono maggiormente rilevanti per me. Allora, nell'area del disturbo borderline di personalità e qui vengo un po' al centro del tema di questo mio intervento, uno dei processi di regolazione cognitiva che è risultato particolarmente rilevante non solo nei disturbi emotivi ma anche nel disturbo borderline di personalità, è la propensione a rimuginare o ruminare a lungo sui propri stati interni o sui propri problemi. Esistono, mi focalizzo qui, esistono diversi tipi di rimugine e ruminazioni, me ne focalizzo su due, quello più famoso e quello che è più coerente con il tema di questo seminario odierno. Per esempio, noi conosciamo che uno dei processi cardine è la cosiddetta ruminazione depressiva, di che si tratta? Si tratta del rimanere ad analizzare in modo continuo il proprio malessere, i propri problemi, le loro possibili cause, le loro possibili conseguenze. Ha diverse componenti e caratteristiche, sicuramente una caratteristica particolarmente analitica. La ruminazione depressiva è un tentativo costante e continuo di rispondere alla domanda perché? Perché non riesco a fare di meglio? Perché capitano sempre a me, perché mi trovo sempre in queste situazioni, perché faccio sempre le scelte sbagliate, perché mi merito di soffrire così tanto. Ha una caratteristica autocritica, quindi il sé diventa l'oggetto della critica e della ruminazione stessa come primo e unico, se non unico, responsabile del malessere, del disagio che si sta osservando e ha una caratteristica controfattuale, cioè mira a cercare di analizzare gli episodi passati, analizzando come avrebbe potuto la persona comportarsi in modo diverso. Questa propensione alla ruminazione depressiva negli anni è stata identificata in modo oramai, come dire, ben riconosciuto a livello internazionale come uno dei principali motori dei disturbi depressivi e uno dei principali responsabili della ricaduta nei disturbi depressivi dopo la remissione da un episodio depressivo maggiore. E quindi la domanda diventa questa ruminazione che si è iniziata a conoscere e a studiare con la depressione. Ha un effetto sulla disregolazione emotiva? Ha un impatto all'interno del disturbo borderline di personalità? Potrebbe essere responsabile di questo primo punto interrogativo, cioè è possibile che l'intreccio tra ambiente invalidante e predisposizione biologica generi un mantenimento di uno stile disregolato dal punto di vista emotivo attraverso l'utilizzo costante e continuo di una propensione a ruminare in modo depressivo. Abbiamo alcuni dati in questa direzione. Sappiamo che la ruminazione prolunga e intensifica l'umore depresso, quindi in qualche modo favorisce una forma di desregolazione, almeno dal punto di vista depressivo, alimenta la propensione all'evitamento, danneggia le capacità di problem solving concreto da parte delle persone che si trovano molto più chiuse nella concettualizzazione astratta del proprio malessere, che nella produrre delle risoluzioni concrete al proprio disagio, fortifica distorsioni cognitive. Ci sono degli studi interessanti che mostrano come più a lungo riflettiamo su di noi, più a lungo tendiamo ad avere una visione negativa di noi stessi. Quindi produce una sorta di memoria sovra generalizzata e astratta in cui il sé viene costantemente giudicato come negativo, privo di valore o sbagliato, deficitario o quant'altro. La ruminazione riduce la motivazione al cambiamento, crea un danno al sistema delle relazioni interpersonali e alle prestazioni cognitive. Quindi ha un impatto deleterio su molti fronti che in qualche modo, quantomeno sul versante depressivo, implicano un mantenimento, un incancrenimento di episodi depressivi maggiori. Quindi può, questo è il punto di partenza, favorire o è quantomeno associato a un processo di disregolazione emotiva sul versante depressivo. La sua sorella è la cosiddetta ruminazione rabbiosa, sicuramente di più recente studio e concettualizzazione e sin dal principio intrecciata a doppio filo con il mondo del disturbo borderline di personalità. La ruminazione rabbiosa è definita come uno stile di pensiero ricorrente negativo che si concentra su eventi o esperienze di rabbia o eventi che hanno indotto rabbia e ferite emotive nella persona e che hanno un particolare significato personale. Di solito nell'area border si configurano come i contenuti più frequenti riguardano l'area del rifiuto interpersonale, dell'offesa subita, della sopraffazione anche, aggiungerei, dell'ingiustizia, della provocazione sociale. In questi tempi recenti anche della sopraffazione in termini del mondo che agisce sulle persone vincolando la loro libertà o costringendole per esempio in casa o a portare le mascherine. Anche la ruminazione rabbiosa ha molteplici componenti. Si parte dalla rievocazione delle esperienze passate, una rievocazione che ha una caratteristica anche immaginativa abbastanza florida, tant'è che può generare quel fenomeno che è stato studiato spesso in associazione a questo tipo di ruminazione che è la Just Yesterday Experience, cioè la tendenza continuamente a ripercorrere, a visualizzare episodi di dolore in termini e di ferite, in termini rabbiosi che hanno a che fare con il nostro passato, fa sì che la memoria di questi episodi si consolidi, tant'è che stimoli che li richiamano anche a distanza di tempo generano un'attivazione emotiva molto simile a quella avuta all'epoca, in quel fenomeno che appunto appare nell'esperienza soggettiva della persona come se fosse capitato ieri, quindi come se fosse molto più recente di quanto in realtà non sia. L'attenzione è rivolta a situazioni presenti, alle proprie emozioni, c'è anche qui un tema di elaborazione controfattuale, c'è un tema di elaborazione analitica, ma perché si comporta così che cosa le ho fatto e c'è anche, a differenza della ruminazione, una fantasia di vendetta o di ripristino del bilanciamento, una immaginazione in cui io mi immagino a dire, a sottomettere, a mettere in difficoltà, a farla pagare alla persona che in qualche modo mi ha fatto soffrire e in questo modo fomentando sentimenti di rancore e di rabbia. Sulla ruminazione rabbiosa, ancora, associazione con la disregolazione emotiva, prolunga e intensifica l'esperienza di rabbia, quindi ha un effetto simile a quello della ruminazione depressiva sulla depressione, ritarda, e questo è molto interessante in termini di disregolazione, cioè più rumino rabbiosamente, più si dilatano e si rallentano i tempi di ritorno alla baseline del sistema cardiovascolare ed endocrino, a seguito di un processo di attivazione, che è molto simile a una delle caratteristiche della disregolazione emotiva, e cioè il lento ritorno alla baseline, quindi potrebbe essere un elemento di ostacolo alla naturale regolazione delle emozioni. Può riattivare la medesima reazione cardiovascolare a un evento corso diverso tempo prima, per il fenomeno della Just Yesterday Experience, di cui parlavo poc'anzi, e lo stato di tensione che genera la ruminazione rabbiosa, essendo molto attivante, può essere anche faticoso e dispendioso in termini energetici, e può consumare delle risorse adibite all'autocontrollo, cioè ci sono degli studi che mostrano come se noi esercitiamo uno sforzo di autocontrollo, noi tendiamo a consumare una sorta di pacchetto di risorse, tant'è che esercizi di autocontrollo successivi riescono peggio se vengono messi in fila, a meno che non ci sia sufficiente tempo di recupero delle energie. Tra l'altro questo è direttamente proporzionale alla quantità di glucosio presente nel cervello, quindi tra un evento e l'altro l'inserimento di glucosio sembra ripristinare la capacità di mantenere un buon livello di autocontrollo. Questo cosa significa? Che attraverso la ruminazione rabbiosa il rischio che noi corriamo è di mettere fuoco sotto la pentola a pressione. Da un lato ruminiamo e quindi accendiamo il fuoco, dall'altro esercitiamo autocontrollo, magari all'inizio per non trasformarlo in un comportamento, in un'espressione. In questo modo ci mettiamo nella condizione della pentola a pressione, che è esattamente quella condizione che fa sì che un esercizio di autocontrollo successivo, magari imposto dall'ambiente, magari per una cavolata o di intensità minore, ci porta ad esplodere. Per esempio, se ruminiamo per mezza giornata, poi basta una piccola, arriviamo a casa, ci siamo contenuti perché al lavoro ci hanno fatto impazzire, ma in qualche modo abbiamo cercato di sopprimere l'espressione ma ci abbiamo ruminato, arriviamo a casa, l'occhiataccia o la battuta infelice del nostro partner ci porta ad esplodere improvvisamente, drammaticamente. Aumenta la probabilità di risposte comportamentali aggressive, quindi sì, la ruminazione rabbiosa addirittura più che la ruminazione depressiva sembra avere una connessione molto stretta con alcuni elementi con cui viene definita la disregolazione emotiva. E nei disturbo borderline di personalità sappiamo che, per esempio, il disturbo borderline di personalità ha una tendenza a ruminare mediamente più alta che i pazienti con disturbo depressivo maggiore, per i quali la ruminazione è uno dei perni centrali. Quindi questo ci dice che in qualche misura i pazienti disturbo borderline sono dei super ruminatori, anche rispetto ai depressi. Sappiamo che, c'è uno studio molto interessante, la ruminazione o l'utilizzo della ruminazione è associata alla presenza di tratti border nella popolazione non clinica, controllando per i livelli di depressione. Quindi significa che esiste anche un connubio specifico tra la tendenza a ruminare anche sotto la soglia clinica del disturbo di personalità e la manifestazione dei tratti borderline. Sappiamo infine che la diagnosi borderline è associata a diverse forme di ruminazione indipendentemente dai livelli di ansia, depressione e rabbia. Quindi che esiste un'associazione molto stretta che non è solo dipendente da un'acuzia sintomatica in un versante ansioso-depressivo. Sappiamo che la ruminazione rabbiosa è anche associata a una disregolazione comportamentale. Quindi la ruminazione rabbiosa permetterebbe anche di favorire un link o di spiegare in modo più chiaro un link tra la disregolazione emotiva e quella comportamentale. Sappiamo che per esempio alcuni comportamenti problematici e disregolati hanno lo scopo di interrompere la ruminazione o di uscire dal processo ruminativo che le persone percepiscono di non riuscire a interrompere altrimenti. Sappiamo che la ruminazione rabbiosa, questo è uno studio fatto assieme ad alcuni collaboratori di Bologna, predice i comportamenti disregolati e impulsivi indipendentemente dalla disregolazione emotiva. Questo è un altro dato interessante, cioè la tendenza a ruminare sembra un predittore più forte o comunque indipendente degli comportamenti impulsivi, indipendente rispetto alla semplice disregolazione emotiva. E poi ci sono una serie di studi che hanno mostrato l'associazione rispetto al consumo di alcol e all'esperienza di Craven, che sono poi quelli del nostro gruppo. Quindi in sintesi che cosa sappiamo e perché la ruminazione è importante nel disturbo borderline di personalità? Ve la mostro così che è meglio. Sappiamo che la ruminazione amplifica emozioni negative e ostacola il ritorno alla baseline. Quindi sappiamo che quantomeno è associata a due componenti chiave della disregolazione emotiva. Sappiamo che è associata al disturbo borderline di personalità con un buon grado di specificità. Sappiamo che è associata a comportamenti disregolati in modo indipendente anche dalla disregolazione emotiva, sia nella popolazione non clinica che all'interno del disturbo borderline di personalità. Sappiamo anche che in alcuni casi l'attenzione spostata altrove rispetto al proprio stato emotivo determina e quindi una sorta di antiruminazione ha un effetto benefico perché determina la riduzione più rapida della disregolazione emotiva. In base a questa sintesi uno dei modelli teorici più recenti che ha cercato di inserire la ruminazione all'interno della concettualizzazione del disturbo borderline di personalità è il modello della cascata emotiva di Selby. Per cui noi in questo caso viene mantenuta l'idea che la tendenza a vivere in un contesto invalidante, avere un temperamento particolarmente sensibile agli stati emotivi generi un certo grado di sensibilità emozionale. Questa sensibilità emozionale però diventa disregolata, diventerebbe disregolata nel momento in cui si innesca un circolo vizioso con un processo ruminativo che in qualche modo non fa altro di da un lato mantenere il fuoco acceso sugli stati emotivi e quindi a intensificarli e ostacolarne la regolazione, le cose che sappiamo. L'unica cosa su cui sappiamo non essere, non abbiamo dati sull'associazione è proprio la sensibilità, quindi il primo punto della definizione di disregolazione emotiva, per questo in questo modello viene mantenuto tra virgolette separato, ma sappiamo che la ruminazione amplifica l'intensità e ne ostacola l'autoregolazione e sappiamo che il comportamento disregolato può essere uno degli elementi a cui la persona è spinta per due ragioni, o per uscire dal circuito ruminativo di intensità e di alimentazione dell'intensità emotiva, quindi per interrompere il circolo vizioso, o semplicemente come esito di un processo di riduzione delle risorse necessarie a mantenere un autocontrollo nel tempo. Ovviamente il comportamento disregolato genera vergogna, colpa e un'altra serie di problematiche nella vita che amplifica la frequenza di stimoli emotigeni in senso negativo e può dare il là al ripristino del circuito. Questo modello quindi spiega la maggiore intensità delle reazioni emotive di fronte a stimoli minori dei pazienti borderline, quindi spiega alcune cose, mica tutte, ma alcune le spiega, spiega il lento ritorno all'attivazione di base, la resistenza a normali distrattori, spiega anche il processo attraverso cui da disregolazione emotiva si può arrivare a disregolazione comportamentale. Il processo ruminativo spiega perché strategie distraenti più semplici non sono sufficienti per il disturbo borderline di personalità, mentre le sensazioni fisiche che sono associate a un comportamento disregolato possano avere una funzione distraente più forte e più efficace. Questo che cosa significa? che se noi guardiamo la concettualizzazione del disturbo borderline, questa è una concettualizzazione che cerca di mettere assieme tutte le associazioni che abbiamo tra i vari sintomi, incluso anche gli aspetti presenti all'interno della cascata emotiva, vediamo un quadro molto complesso, come si diceva prima è molto variegato, in cui ci sono molte nuvole di sintomi che possono interfacciarsi tra di loro. Ma in questo senso se noi li isoliamo all'interno tenendo a mente quel modello noi potremmo vedere, qui non si vede, però potremmo notare un nucleo che è caratterizzato dall'interfaccia tra una tendenza all'ipervigilanza che favorisce la sensibilità emotiva e l'attivazione delle emozioni e gli elementi della cascata emotiva, quindi intensità delle emozioni, ruminazione, disregolazione comportamentale, che in qualche modo a cascata, se rigidi e se costanti, possono favorire e alimentare, mantenere tutta una serie di altre problematiche che corrispondono alla cornice più ampia del disturbo stesso. Quindi potrebbe essere interessante esplorare se interventi focalizzati sia in autonomia, sia aggiungendoli ai normali interventi che noi conosciamo oggi efficaci per il disturbo borderline di personalità o quantomeno di moderata efficacia, se aggiungendo un processo di intervento sugli elementi ruminativi, possiamo in qualche modo pensare di colpire, se non il, almeno uno dei nuclei che sembra essere portanti per questo disturbo. Quanto tempo ho ancora Ale? Cinque minuti. Quindi vorrei aggiungere qualcosa, perché poi noi in questo senso abbiamo anche esplorato e cercato di comprendere perché certi individui ruminano e altri no. E qui ci viene in aiuto il concetto di metacognizione, cioè che cosa sostiene una reazione di tipo ruminativo. Noi sappiamo che una serie di studi mostrano come la tendenza a ruminare dipenda sostanzialmente da, o possa dipendere anche da, ciò che noi pensiamo del funzionamento della mente. Questo è, le nostre convinzioni e le nostre conoscenze sul funzionamento della mente vengono definite metacognizioni. Sappiamo che i pazienti tendono a ruminare perché considerano questa tendenza a sovrautilizzare il ragionamento mentale non un problema, ma una soluzione, una possibile soluzione ai problemi e ai disagi della vita o anche al proprio malessere emotivo, o anche addirittura come un valore, come un elemento che caratterizza una persona di valore. Oppure considerano la ruminazione come un sintomo inevitabile. Sono fatto così, non posso scegliere, non posso fare altrimenti, non ho altra strada. Oppure non hanno la minima idea del fatto che ruminano così a lungo e così tanto. Cioè non riconoscono questo processo cognitivo come un processo cognitivo. Adrian Wells ha sviluppato un protocollo di intervento focalizzato sulla ruminazione nell'area dei disturbi emozionali, identificando come intervenendo su queste credenze metacognitive si possa ridurre drasticamente la tendenza a ruminare da parte dei pazienti. Le credenze metacognitive che hanno mostrato essere rilevanti nell'ambito della ruminazione sono state poi distinte in due grosse macrocategorie. Quelle positive che indicano, come dire, l'idea che ruminare sia utile, sia una soluzione, sia un valore. Mi serve per sapere chi sono, mi serve per sentire il sicuro, mi serve per mantenere una mia identità, mi serve per mantenere il controllo di me, mi serve per non essere soprafatto dagli altri, mi serve per capire come risolvere i miei problemi, per conoscere me stesso, eccetera, eccetera. O metacredenze negative, credenze metacognitive negative che hanno a che fare con l'idea che i propri stati interni sono pericolosi, che non riesco a smettere che la ruminazione è un processo incontrollabile, che io sono fatto così e non posso essere fatto altrimenti che in fondo la mia mente è difettosa o sbagliata. Se noi l'appoggiamo all'interno del modello precedente, vedremo che quindi l'interfaccia tra sensitività emozionale e ruminazione potrebbe, perché noi sappiamo che è così nell'area dei disturbi emozionali, poi vi farò vedere che abbiamo dei dati in tal senso anche per il disturbo border, ma potrebbe essere mediata dall'azione di queste credenze, in buona sostanza. Non chiama, non risponde al telefono, uno stato di sensibilità si attiva nell'individuo in termini sia cognitivi che emotivi, non mi ama, angoscia, ruminare mi aiuta a gestire questo dolore, a trovare una risposta, per esempio, a questo dilemma, mamma non mamma, a capire come mai, a capire che cosa sta succedendo, che cosa c'è nella mente dell'altro. Questo innesca un processo ruminativo, il quale processo ruminativo sappiamo che alimenta questo stato di disagio. In più sappiamo che quando entrano in gioco credenze metacognitive negative, del tipo non riesco a smettere più forte di me queste emozioni o questa ruminazione sono pericolose, mi distruggono, mi portano fuori controllo, mi fanno impazzire, non riesco a fare altrimenti, questo può essere un elemento carine che spinge verso la messa in atto di comportamenti disregolati che possono andare sullo stalkeraggio in seguimento dell'altro per verificare il dubbio angosciante che ho, oppure semplicemente sopprimere tutto questo sistema all'interno del consumo di alcol, nella sedazione offerta dall'alcol, che ovviamente genera una serie di altri problemi interpersonali. Allora, noi sappiamo oggi che intervenire a questi livelli sulle metacognizioni per ridurre la ruminazione esistono primi studi che mostrano che possa essere efficace applicato anche nell'area del disturbo borderline di personalità. Uno studio uscito nel 2019 è uno studio preliminare su 12 pazienti con disturbo borderline di personalità, ma pazienti comunque di grande severità con molteplici traumi alle spalle, quindi pazienti non, sapete che anche la gravità dei border può variare enormemente, non sono pazienti ad alto funzionamento, erano pazienti che avevano iniziato in ospedalizzazione, quindi pazienti gravi con spesso molteplici comportamenti autolesivi o suicidari o parasuicidari e possiamo mostrare come i pensieri suicidari o i comportamenti autolesivi post-treatment siano ridotti significativamente si siano mantenuti ridotti a uno o due anni di follow-up, così come si siano sufficientemente ridotti i livelli di ansia e depressione. Dopo un anno, questi inizi e fine di trattamento significa un anno di terapia all'interno di questo studio. Questo significa che esistono i confini o i margini per poter applicare la linea terapeutica che è tipica dell'approccio metacognitivo anche all'area del disturbo borderline di personalità in supporto agli skill training, per esempio della DBT, su altri aspetti di regolazione del comportamento e di regolazione emotiva, come strategia, come modulo di regolazione delle funzioni cognitive, di cui linee terapeutiche implicano intanto riconoscere la ruminazione mentale di tipo depressivo, rabbioso nei momenti in cui si attiva, perché molti pazienti non sanno che cos'è, non la sanno etichettare e non la riconoscono come un processo cognitivo a parte. Imporare a regolare queste reazioni cognitive e quindi a fare altro rispetto alla ruminazione, anche conoscere quali sono le alternative, scoprire nuove informazioni sul funzionamento della mente, per esempio che non è così utile come credo, non è così necessario, non è così inevitabile, vivere gli stati emotivi come esperienze transitorie e non come fatti, che è un po' anche in realtà un elemento abbastanza comune a tutte le terapie processuali di cosiddetta terza generazione. La terapia metacognitiva offre una serie di strategie di tecniche, è stata applicata anche in modelli di gruppo, questo potrebbe favorire l'applicazione anche all'area borderline di personalità, anche se per ora sono stati testati con gli ossessivo compulsivi disturbo d'ansia generalizzata e depressi, ma potrebbero essere anche applicati come modulo di intervento di gruppo e questo potrebbe essere uno degli scenari di sviluppo sperimentale della Clinica Italiana di Psicoterapia di Modena. Qui sono alcuni elementi che le caratterizzano, ma ovviamente non mi voglio dilungare eccessivamente su questo aspetto pratico ora, magari però solo per dire che la linea terapeutica, sebbene adattata alle caratteristiche, alla grevità dei pazienti con disturbo borderline di personalità, che sicuramente richiede maggior cautela, maggiori tempi, maggiori gradini per arrivare allo stesso livello di consapevolezza di staccata rispetto ai disturbi emozionali, sono però stati applicati con un certo grado di successo almeno in alcuni studi preliminari. Qui ci sono alcuni testi a cui fare riferimento, uno è il nostro sul rimuginio e uno è quello di Adrian Wells sulla terapia metacognitiva, però direi che noi abbiamo la possibilità oggi di avere un modello guidato da una teoria, da una logica, da una teoria, da una serie di dati empirici che giustifica l'applicazione di un intervento orientato alla ruminazione anche in pazienti con disturbo di personalità. Ovviamente si tratta ancora di un intervento sperimentale, quindi non può essere almeno in questo contesto privato applicato se non in comunione con quelli che sono invece dei trattamenti ormai considerati stabili e di riferimento per questo genere di pazienti. Questo non significa che eventualmente ci potrà permettere di scoprire se longitudinalmente può dare qualcosa in più al percorso di cura di questi pazienti. Grazie. Grazie Gabriele. Abbiamo una domanda già che te l'hanno scritta durante, mentre tu parlavi, e c'è una persona che ti chiede se il rimuginio può essere acquisito o se si presenta con maggiore facilità, c'è una relazione tra rimuginio ed evento post-traumatico. Allora, diciamo che acquisito immagino si riferisse all'apprendimento. Normalmente per quello che noi sappiamo il rimuginio è una strategia volontaria messa in atto dalle persone, un po' come l'evitamento e un po' come anche una serie di comportamenti di ricerca di rassicurazione. Anche se molte persone non lo riconoscono come una strategia volontaria, solitamente ha una natura appresa. È vero che una persona che tende a rimuginare o a ruminare rispetto alle situazioni o di incertezza o di difficoltà o di disagio, tenderà naturalmente a farlo più frequentemente quando queste occorrono. Quindi il trauma di per sé non genera lo sviluppo di una stile rimuginativo, ma in persone che hanno questa tendenza può amplificarlo notevolmente perché rappresenta l'elemento cardineo trigger che facilita l'attivazione di una strategia che è già propria nelle mani di queste persone. Infatti i primi studi sulla ruminazione sono stati proprio su questi, cioè il primo grande studio di Nole Noxima che è stata la concettualizzatrice del concetto di ruminazione depressiva all'inizio degli anni 90 fu quello di esplorare diverse decine di migliaia di persone dopo un evento traumatico forte, se non erro, era un terremoto all'epoca e valutare longitudinalmente che cosa succedeva o chi di queste sviluppava un disturbo post-traumatico. Il risultato fu che uno degli elementi cardine che faceva da mediazione tra l'evento traumatico e lo sviluppo a distanza di tempo di un disturbo da stress post-traumatico fosse la tendenza a ruminare sull'evento occorso e sul malessere o i disagi che aveva generato. E quelle persone sappiamo che tendono a ruminare maggiormente sono quelle persone che magari non hanno problemi in una condizione normale, ma che elicitano, sono più vulnerabili a sviluppare un momento, un episodio depressivo maggiore nel momento in cui si crea un evento stressante nella propria esistenza. Ok. L'altra cosa che penso che è interessante è vedere se c'è una relazione tra rimuginio e il sistema familiare. Io penso, inteso come apprende anche qua, nel caso di un apprendimento di abitudini, di studi, di pensiero. Abbiamo alcuni dati in questa direzione. Non sono ovviamente dati completi, ma alcuni ci sono. Sappiamo che uno stile genitoriale iperprotettivo, per esempio, tende a favorire la propensione al rimuginio ansioso, perché tende a stimolare, rinforzare l'idea della ricerca mentale del pericolo in condizioni di incertezza, ad elaborare quali potrebbero essere i pericoli. Sappiamo che uno stile che possa essere un po' invalidante o passivizzante, in cui non c'è una stimolazione alla libera espressione, alla condivisione, può favorire una propensione alla ruminazione, perché le persone tendono, nei momenti in cui non percepiscono la possibilità di esprimere, di ricevere consiglio e supporto dal mondo esterno, a continuare a creare, a costruirsi una forma disfunzionale di supporto, facendo riferimento solo sulle proprie informazioni mentali e quindi stimolando la propensione alla ruminazione. Ecco, io credo che l'ultima domanda, ma è proprio un'ultima, che viene a seguire quello che hai detto adesso, è la differenza del contenuto cognitivo, se è presente, adesso ce ne sono delle altre, nei vari disturbi. Cioè, hai un rimuginio che ha un contenuto diverso, a seconda che sia un disturbo, un DOC, oppure un BORDER, oppure una depressione. Sì, ci sono, diciamo, in buona parte esistono delle differenze sui disturbi in termini di contenuto. L'elemento del rimuginio o della ruminazione è proprio l'asse trasversale, poi diversi disturbi vengono solitamente, ma questo è anche un po' un vizio di come è classificato il DSM, vengono differenziati in base ai contenuti. Per esempio, il rimuginio del disturbo ansioso sociale è caratterizzato dalle proprie manifestazioni di ansia o il giudizio degli altri, quello del DOC, le implicazioni dei propri pensieri, quello del borderline, il rifiuto da parte degli altri. Quindi esistono delle differenze. Però, essendo che l'asse e le caratteristiche di quest'asse processuale è simile, esiste un elemento comune che potrebbe sostenere il malessere in modo trasversale a tutti i disturbi. E potrebbe anche essere l'elemento che giustifica il fatto che soprattutto nei disturbi di personalità, dove questa tendenza, abbiamo visto, è ancora più alta che nei disturbi emotivi, a volte si possa manifestare come un esordio improvviso DOC, il famoso tappo ossessivo del disturbo borderline di personalità, piuttosto che in altre forme. Potrebbe essere anche responsabile del fatto, questa sovratendenza ruminare, del fatto che nei borderline ci possono essere dei corollari sintomatologici che nel corso della loro vita hanno delle acuzie di diverso tipo, panicoso, ossessivo, piuttosto che ansioso di tipo impocondriaco. L'ultima domanda, perché dopo lascerei come tempi la parola a Sandra, è Grazia che ti chiede, ma la ruminazione a questo punto la possiamo considerare un'automedicarsi? Cioè un tentativo non riuscito della mentalizzazione? Diciamo che in linea di massima sì, per alcuni pazienti in modo più marcato, nel senso che per alcuni pazienti con disturbo border, ma anche, insomma, diciamo pazienti con disturbo di personalità, la ruminazione non è neanche concettualizzata come tale, quindi non si fa fatica anche a parlare almeno nell'immediato di una modalità, di una motivazione chiara di automedicazione. Per altri è molto chiaro il tentativo di automedicare, di tenersi sotto controllo, per altri è un vero e proprio valore, quindi in qualche misura il tema dell'automedicazione è più indiretto, nel senso che io mi sento a posto con me stesso se in qualche modo, per esempio, mi tengo dentro una visione negativa di me. Quindi in qualche misura sì. È chiaro che la mentalizzazione, per come è concettualizzata, molto spesso deriva a bisogno perché si sviluppi, mettiamola così, almeno il modo in cui io la concettualizzo, o il modo in cui io la prospettiva da cui l'osservo, avrebbe bisogno di uno scambio aperto con altri. Sicuramente la ruminazione che implica, come i ruminanti, continuare a digerire, a rimasticare lo stesso contenuto, è ovvio che non favorisce spunti nuovi per creare una visione più ampia e più distaccata di sé. Anche se le persone possono ritenere che la ruminazione serva a capire se stesse, in realtà noi le conoscenze le abbiamo principalmente attraverso delle A, illuminazioni, associazioni libere di stimoli, o B, confrontandoci con delle persone diverse che ci danno delle prospettive diverse da quelle che sta dentro la nostra mente. Ok. Grazie mille al dottor Caselli per il contributo appunto alla fine, ma all'inizio, che ci ha permesso quindi di integrare questa parte che dopo descriverà come l'abbiamo utilizzato nel progetto del centro. E adesso lascerei la parola a Sandra, che aveva il titolo iniziale della Libet, che cos'è e soprattutto qual è la sua utilità, penso, nei disturbi di personalità. Sì, grazie. Grazie Gabriele che ti sei presa il peso di parlare subito. Io ho provato a sistemarmi di share screen e secondo me adesso ci riesco. Lo vedete? Eccolo. Sì. Ok, io ho fatto invece delle slide sulla Libet con un caso finale e probabilmente vi renderete conto che una serie di queste riflessioni si sovrappongono anche. Ecco. E ho cercato di dare della... La Libet è nata da delle riflessioni che noi facevamo sui stubi di personalità un po' di anni fa insieme a tutto il nostro gruppo e all'inizio più come giustificazione di tipo evolutivo. Anche perché è nella nostra storia del cognitivismo italiano il fatto di tenere conto degli aspetti evolutivi quando vediamo i pazienti, anche non più o meno difficili, di tutti i tipi. Cioè dove l'ha imparato, no? Che è tipicamente una domanda che noi già facevamo 30 anni fa e che invece nel cognitivismo recente internazionale è arrivata un po' più tardi. Però la Libet... Oggi volevo cominciare da una giustificazione logica. Cioè, ma come possiamo giustificare logicamente il fatto che utilizziamo dal niente questo modello di formulazione del caso che prima non avevamo usato? Gli abbiamo dato un nome, il nome lo dobbiamo a Giovanni, è un nome strano, però adesso che ve ne parlo molti di voi lo conoscono nelle nostre scuole. Chi di voi è nelle nostre scuole ha dei concetti nuovi ma sicuramente cercherò di giustificare il suo uso e la sua utilità. A che cosa ci serve? Il clinico, avendo questa... la Libet non è un modello di terapia, ma è soltanto un modo per formulare come i nostri pazienti funzionano e quindi... ed è un modo molto economico, con degli item, pochissimi item, e segue il modello di atesi stress che abbiamo trovato nella cognitiva vecchiana. Ci aiuta a condividere con il paziente queste ipotesi di funzionamento, quindi possiamo dialogare col paziente vedendo e discutendo insieme a lui cosa di quello che fa gli è ancora utile, invece cosa in questo momento è andato o può andare in crisi e che possiamo insieme provare a curare o a rendere più flessibile. Questo fa sì che il paziente ha chiaro, forse per la prima volta nella sua vita, come lui funziona. È chiaro che non è che gli imponiamo le mani sopra, nasce da una diagnostica che condividiamo con lui. Noi abbiamo la testistica Libet, oggi, che si aggiunge in tutti i nostri centri agli altri test, sia nelle interviste strutturate che nei test autosomministrati, in modo tale che lui sappia che è depresso e sappia che è un perfezionista patologico, ma che da sempre questa tendenza a non voler sbagliare è stato qualcosa che a lui è stato molto utile in un certo contesto familiare. E poi la Libet ci consente anche di monitorare l'andamento misurando in modo semplice i parametri di cura. Cioè noi abbiamo degli item di tipo processuale, così possiamo vedere come certi suoi modi di funzionare diventano nel tempo più flessibili e abbandonano la loro rigidità. Consente di fare scelte di intervento economiche strategiche che tengano conto di questa diversità, senza il bisogno di aderire a diversi principi di cura. Perché? Perché in qualche modo nella terapia cognitivo, noi cognitivisti, fino a quando dovevamo curare una persona che aveva soltanto un disturbo d'attacco di panico, esistevano dei protocolli e avevamo la libertà di utilizzare quel protocollo e poi salutare il paziente. Quando invece abbiamo incontrato persone che avevano sia dei disturbi in acuto, un esordio di panico, sia modalità di funzionamento in cronico da tanto tempo, spesso abbiamo dovuto ricorrere ad altre spiegazioni e quindi portare avanti delle spiegazioni di tipo integrativo che in realtà, secondo noi, andavano a confondere il quadro di riferimento. Perché? Perché, come ho detto, come ho accennato prima, esistono dei... cosa sono per noi pazienti acuti? I pazienti che arrivano in acuto sono dei pazienti che prima stavano relativamente bene e che arrivano con un esordio, una bulimia, un disturbo, un DOC, un disturbo di panico, un'agorafobia. Quindi, in qualche modo, anche se nel loro funzionamento prima esistevano dei piani che erano levemente disfunzionali o, come diciamo noi, semiadattivi, però senza quell'acuto non sarebbe stato per niente necessario affrontarli. Invece arrivano dei pazienti in ufficio che portano una sofferenza anche acuta, ma anche non sempre, perché arrivano... perché improvvisamente si chiedono, ma la vita che senso ha? Quindi non c'è un esordio ansioso, un esordio depressivo, ma si chiedono, sì, vabbè, ma se la vita è questa cosa qui, che senso ha viverla? Ma questo tipo di domande sono spesso un esito infelice di un funzionamento costante del tempo che è sempre stato problematico, sia nella progettazione esistenziale, sia nel rapporto con gli altri, perché quando si indaga si vede che si è sempre funzionato in certe aree magari bene, come nel caso che vi racconterò, sono diventato una grande professionista, ma ho sempre avuto delle aree in cui ho arrancato fino ad avere 50 anni. La differenza è sempre stata raccontata in termini di maggiore o minore gravità, ma secondo me la differenza in termini di gravità era un po' ingenua. Perché? Perché la tendenza di alcuni pazienti è quello di considerare normale dei comportamenti che li danneggiano e che poi generano anche una certa difficoltà nella cura. Ma questi pazienti non sono più o meno normali, hanno soltanto un funzionamento inflessibile cronico. Ecco, questo è... la Libet per noi è un modo per poter affrontare questo tipo di funzionamento in acuto e in cronico, come Gabriele e Giovanni dicono, in situazioni di alta o bassa minaccia, tenendo conto di questi due principi e non dovendo... di questi due funzionamenti non dovendo ricorrere ad altri principi esplicativi. Ecco, questo... questa cosa noi l'abbiamo trovata circa in letteratura nel 50% dei pazienti che ci portano oggi un panico, ma che sempre avevano funzionato evitando oppure essendo troppo controllanti, troppo perfezionisti. E la Libet ci consente questo. Ci consente di non dover ricorrere ad altri principi esplicativi tipo, e Giovanni ve lo spiegherà meglio di me, tipo il problema è solo nella relazione o il problema è soltanto negli aspetti traumatici o attaccamentisti che ha avuto nella sua famiglia. Se è vero che l'uomo vivendo tenta di rimodulare il suo rapporto col mondo, si comprende come in alcune circostanze evolutive, ad esempio in una famiglia molto critica, una madre che ci attacca costantemente e ci rifiuta, una famiglia in cui ciò che è esterno viene sempre considerato pericoloso, un patrigno o un fratello gravemente abusandoti, ci costringa a mettere in atto, in modo inflessibile, tentativi di soluzione del problema che permettano di navigare nelle dure circostanze in cui viviamo. Quindi è proprio recentemente che ho fatto un consulto con una ragazza che chiedeva, che si era bloccata con un dottorato vivendo a Parigi e che chiedeva aiuto per uno strano blocco di questo dottorato di cui non capiva il motivo. Andando a indagare si è visto come questa ragazza avesse avuto una madre francamente ostile fino all'esplosività, sostanzialmente solo con lei che era figlia unica e un padre affettuoso ma del tutto inefficiente. Lei ha sempre funzionato male. Perché? Perché tutti i rapporti, in tutti i rapporti affettivi non funzionano. Lei non si fidava e quindi andava a chiudere i rapporti. Le persone che le volevano sempre delle persone indisponibili. Si era sempre ritirata nella vita sociale fino ad arrivare adesso a una situazione di isolamento in una città straniera con un dottorato da fare che lei non riesce più a fare. Ecco, questo è un acuto, un episodio depressivo e anche un blocco comportamentale di studio in un funzionamento di cui lei era scarsamente consapevole che è da sempre così. Adesso lei ha fatto la testistica e è stata inviata però mi ha fatto molto tenerezza perché l'attuale depressione è abbastanza grave e io le ho detto ma in fondo uno potrebbe anche usare un farmaco in quella situazione di isolamento con la famiglia lontanissima senza avere un amico, avendo 35 anni, senza un rapporto e lei ha detto ma io perché dovrei fidarmi di lei? No? E questa cosa mi ha fatto tenerezza perché è applicare a me il suo piano di sfiducia che l'ha portata dove lei è arrivata attualmente. Ecco, quindi, ok. Un genitore che rientra in casa, furente ogni sera e reagisce urlando, tirando oggetti e chiudendosi in se stesso, può mettere un figlio di fronte a scelte emergenziali o mi nascondo e queste scelte emergenziali che poi diventeranno i piani di queste persone sono delle scelte utili in quel contesto. Se mi nascondo non mi trova, oppure passo il tempo a organizzarmi in modo tale da poter far sì che lui non mi colga di sorpresa con le sue urle, oppure vado alla lotta. Entrambe questi tipi di reazioni possono essere delle reazioni utili in un determinato contesto ma che se usate in modo inflessibile da quel momento in poi possono portare a situazioni di difficoltà i nostri poi futuri pazienti. Ecco, questa è la Libet, un modo di rispondere a circostanze complesse della propria infanzia da parte di una persona che vede i suoi bisogni in qualche modo non soddisfatti e che cerca soluzioni per stare lontano da stati dolorosi e mettersi in gioco in qualche modo. Le soluzioni che adotta diventano il problema alla lunga. Come in questa mia paziente, con quel tipo di attacco a cui lei è stata sottoposta, il fatto che lei fosse diffidente e sfiduciata era assolutamente sensato ma questo suo comportamento l'ha portata all'isolamento che alla fine l'ha portata a questo senso di devitalizzazione e a questo blocco della studio per cui oggi mi arriva con incompleta depressione. La visione evolutiva della Libet invece è diversa perché ve la racconto a partire dai bisogni insoddisfatti, mentre finora vi ho dato una giustificazione di tipo logico, adesso ve la racconto a partire dai suoi bisogni insoddisfatti. Noi in realtà come esseri umani, ma io dico sempre non solo, abbiamo dei bisogni personali che sono degli scopi e ad esempio i nostri bisogni ci chiedono di trovare una famiglia che ci accudisca. Ma noi possiamo trovare un ambiente familiare o sociale che è ostile perché noi nasciamo molto, non siamo come i cavallini che usciamo dalla pancia della mamma e possiamo già camminare. Noi abbiamo una, a causa della strettezza della vagina umana e della grandezza della nostra testa, abbiamo bisogno per molto tempo delle cure dei caregivers e quindi maturiamo molto lentamente. E in più abbiamo dei bisogni ontologicamente contraddittori. Ad esempio vogliamo esplorare, ma abbiamo bisogno della sicurezza perché nasciamo estremamente, proprio per questa immaturità che ci contraddistingue. Così come vogliamo affermarci, avere successo, ma abbiamo anche bisogno, si chiama, siamo animali branco, di cooperare. Ecco, ad esempio probabilmente nei branchi di lupi è più facile la cooperazione perché il bisogno di affermazione personale, avendo una corteccia levemente inferiore e la nostra è minore. Oppure abbiamo bisogno di condividere con gli altri perché siamo branco, ma nello stesso tempo abbiamo anche di pensare in solitudine per diventare degli individui differenziati. Quindi diciamo che nei nostri bisogni è insito il fatto che non saremo mai felici perché avremo sempre bisogno di tenere un equilibrio delicato tra bisogni contraddittori. I bisogni frustrati producono sofferenza psichica che, se ripetuta, ci può portare una sensibilità. e l'apprendimento di strategie rinforzate a livello contesto specifico e proteggerci rispetto alla sensibilità. La libertà è solo questo, un tema, una sensibilità nata da bisogni frustrati, strategie che ci vengono rinforzate in contesti che non funzionano e necessità di proteggerci. Noi adesso, è chiaro che la Libet nasce perché noi siamo dei clinici e nasce vedendo i nostri pazienti, ma stiamo cominciando a vedere se esiste una Libet in psicologia generale, cioè tutti noi abbiamo temi dolorosi, proviamo a risolvere i problemi e se diventiamo bravi e flessibili non abbiamo esordi psicopatologici, alcuni di noi. Perché? Perché molti bambini, ad esempio, possono apprendere una flessibilità perché i genitori sanno essere flessibili alle richieste del bambino oppure sanno proteggere e quindi dare al bambino il tempo di fare i conti con i morsi delle lucertole o i graffi del gatto, sapendo che possono sempre tornare da un genitore che sa consolare. Oppure sanno trasmettere istruzioni esplicite e incoraggianti, facendo vedere che nella vita è normale avere dei compromessi tra i bisogni. Cioè che tutti noi alla fine, per certi versi, saremo frustrati e che la frustrazione è ineluttabile. E questo in qualche modo, se devo fare un allargamento che poi Giovanni sicuramente riprenderà meglio di me, tutti noi abbiamo, nella Libet c'è un aspetto che è profondamente di accettazione. Cioè non è alla fine di una buona terapia i nostri pazienti, come del resto noi stessi, non saranno felici. Se va tutto estremamente bene, non avranno sintomi e sapranno tenere un delicato equilibrio tra esplorazione e rapporto con le persone a cui vogliono bene, tra bisogni diversi e una buona flessibilità nei piani. Quindi quando questo non accade, quando questo non accade, quindi il ragazzo non acquista conoscenze che gli permettono di capire che quel contesto in cui i suoi bisogni non sono stati accuditi è soltanto un contesto relativo e non è detto che lui tutta la vita troverà un contesto identico al contesto familiare. Non sarà in grado di imparare che l'emozione è uno stato che si può accettare e non uno stato terrifico insopportabile e non sarà in grado di capire che le strategie protettive che gli sono servite con quel padre lì non è detto che saranno l'ideale quando andrà fuori in adolescenza a cercare di trovarsi una ragazza. Perché il suo comportamento evitante nascosto sotto il letto con quel padre se viene portato in altri contesti ad esempio al liceo o nel lavoro può essere del tutto disutile anzi lo rende un isolato e incapace di esporsi alle frustrazioni a cui tutti noi ci esponiamo quando andiamo a esplorare il mondo le prime volte con le nostre grandi goffaggine. Quindi questi pazienti funzionano rigidamente nel contesto in cui sono cresciuti gradualmente diventano sempre più incapaci di elaborare informazioni discrepanti perché poi ci sono i circoli viziosi di mantenimento di secondo livello meno esploro in adolescenza più sono goffo più evito meno esploro e mano male gli altri vanno avanti e io continuo sempre di più a considerarmi una persona disabile e a far fatica ad esplorare. Perpetuano quindi fuori dal contesto in cui sono cresciuti le strategie che sono piani di vita automatizzati che diventano inconsapevoli e vengono considerati l'unico modo di funzionare. Come la mia paziente che aveva tanto insistito per avere inseguendomi essendo una cosa urgente mi doveva assolutamente vedere nonostante il covid e che poi quando io le do una risposta sul progetto clinico e le suggerisco dicendo non è obbligatorio non è obbligata ma potrebbe aiutarla lei mi dice perché dovrei fidarmi di lei? quindi lei adotta con me il piano di sfiducia che ha imparato in un contesto esistenziale estremamente doloroso estremamente doloroso infelice. questo funzionamento rigido e parzialmente inconsapevole o totalmente spesso parzialmente perché i pazienti poi in fondo se vengono a incontrarci incominciano a rendersi conto nel loro caos che c'è qualcosa che non va produce sofferenza psicologica perché noi abbiamo dei costi nei nostri modi di comportarci rigidi o rabbiosi o evitanti o controllanti e quindi diventano una sorta di circoli viziosi di secondo ordine perché meno esploro più mi sento il cretino che papà mi diceva che sono meno esploro e più alla fine tutto diventa una sorta di oggetto la libertà quando viene portata specie da libertà i pazienti molto sofferenti sui nostri tavoli sono oggetti eburnei e difficilmente toccabili e aggredibili dal clinico quindi in sostanza per andare più sul patrico di che cosa è fatta? è fatta di un tema di vita che è una sensibilità cognitivo-corporea con attaccate emozioni condizionata dalla frustrazione di determinati bisogni nell'infanzia o anche nell'adolescenza delle credenze di metacontrollo io devo stare lontano da questi temi di vita dolorosi da strategie di protezione e prevenzione del tema cioè io non posso entrare in contatto con quella sofferenza del mio bambino anche se io ho 20 anni mi dico la stessa cosa anche se non sono più lì non sono più in casa chiuso con quel genitore non sono più quel bambino ma continuo a portare avanti quel sistema di protezione in automatico e quando emerge un evento che invalida questi piani abbiamo gli esordi oppure questi piani si esauriscono e andiamo in alcolismo o in depressione adesso vi faccio un po' di diagnostica ma soltanto sistemica noi abbiamo voluto essere molto pratici quindi no perché anche nel caso che vi racconterò vi renderete conto di quanto è semplice grazie alla Libret il progetto clinico questo non vuol dire che nessun altro ha mai fatto progetti semplici ma la semplicità del modello aiuta la semplicità della costruzione della strategia terapeutica io posso avere dei genitori minaccianti o che mi mettono in condizioni perenne di insicurezza come la paziente che vi ho raccontato finora pericolosi oppure posso essere crescere in Siria in cui ci sono delle condizioni di estrema di estremo terrore perché sono lì in mezzo alle bombe perché poi non sono sempre o c'è stato il terremoto oppure posso avere un tema di freddezza in cui e di naviguatezza di disamore i genitori sono presenti ma non ci aiutano a uscire del mondo ci danno ansia sono loro stessi ansiosi o sono interessanti o rifiutanti ci vogliono come vogliono loro ma non vogliono non sanno accoglierci per la nostra diversità abbiamo un senso di inutile vuoto tristezza e solitudine oppure sono genitori presenti a volte addirittura troppo presenti che però ci vogliono in un certo modo e sono direttamente criticisti oppure ci obbligano a sottostare a regole di bravura o eccezionalità in cui oltre le quali noi non riusciamo a essere null'altro quindi io mi sento vergognoso colpevole umiliato indegno come vedete questi temi hanno anche si intrecciano e si somigliano infatti noi quando li misuriamo e li misuriamo in modo processuale teniamo conto dei temi nel loro insieme e cosa vuol dire che li misuriamo quanto noi siamo condizionati da questi temi o quanto li consideriamo dolorosi o paurosi così come passando ai piani che sono questi e sono tre il piano prudenziale incomincio a evitare fin da piccolo e non mi faccio proprio vedere ritiro evitamento nascondimento oppure cerco di il piano prudenziale prescrittivo sono tipicamente dei nostri pazienti ansiosi oppure controllo tutto non voglio sbagliare sono un dipendente ossessivo faccio un controllo nei rapporti in modo tale da non farmi mai cogliere l'improvvisa come la paziente che vi ho raccontato oppure sono estremamente rigida sulle regole di comportamento sono un collezionista di oggetti oppure sono diffidenti oppure esistono dei piani immunizzanti che sono che io chiamo anche anestetizzanti e che mi insegnano a ignorare la minaccia arrabbiandomi e quindi sentirmi forte per un attimo e facendo vedere al mondo chi sono stordendomi ubriacandomi facendomi mille canne oppure immaginando un mondo grandioso in cui io sono la più geniale scrittrice dell'umanità quindi lo vedete che anche i piani sono estremamente semplici e li vado a misurare con variabili di processo che sono sia l'incontrollabilità è più forte di me oppure la legittimità o l'utilità quanto questo piano di controllo lo considero utile o legittimo la misurazione ci consente di misurare il miglioramento dei nostri pazienti durante la terapia ok come si esauriscono i piani i piani si esauriscono perché a un certo punto si esauriscono gli zuccheri a forza di isolarmi e a stare chiuso insieme a mia madre nella casa avendo come un unico rapporto lei stessa che mi voleva bene mi accudiva e mi faceva la cena se la perdo io il mio piano diventa completamente giudito e posso farmi una depressione un attimo un attimo c'ho un cane impazzito scusate scusa Aurora me la può portare via oppure posso avere un'invalidazione io sono una persona dipendente che sul controllo del rapporto con mio marito ho costruito tutto non ho voluto neanche bambini con lui perché io e lui perfettamente uniti bastavamo lui a un certo punto mi lascia e io ho un esordio di panico e depressivo grave quindi si possono rompere per invalidazione oppure per esaurimento quando io ho la rottura di questi piani io ho l'esordio spesso se io vado a vedere cosa è successo abbiamo l'esordio sintomatico esatto questo questo tipo di costruzione come vedete identifica una quantità molto limitata di variabili che hanno una natura transiagnostica perché noi poi facciamo l'intervento utilizzando a secondo di dove vogliamo intervenire e della domanda del paziente sia a livello del sintomo o a livello del piano o ad esempio a livello soltanto del tema perché devo digerirmi non ho sintomi sono molto triste perché devo digerirmi un lutto imprevisto e quindi il lutto mi ricordo il lutto precoce di mia madre e quindi la mia depressione è legata al mio tema di abbandono e quindi però lì sono terapia che chiedono quasi solo il tema e un sintomo però la quantità di limitate di variabili mi permette di farmi un progetto clinico molto chiaro e ci dà una comprensione economica che ci aiuta nel corso della terapia a decidere volta per volta il target degli interventi e qui c'è una bella slide di Gabriele che vi faccio vedere in cui noi abbiamo un contesto come lui ragionava lui bio-psico-sociale che è uno stile educativo esperienza esistenziale una disabilità perché poi teniamo conto che un bambino può anche nascere con una grave disabilità fisica ed è chiaro che questo è una vulnerabilità anche sul tema o uno stile di attaccamento questo mi costruisce una sensibilità cognitiva corporea io ho delle convinzioni sul tema e quindi mi dico questo tema è per me troppo intollerabile e quindi per me è fondamentale fare alcune cose diventare perfezionismo è chiaro che questo è preverbale però sono credenze di metacontrollo fortemente radicata nei nostri pazienti e quindi considero intollerabile nascondermi ecco il piano è rimugino mi distrago evito mi proteggo e delle conseguenze le conseguenze è chiaro che lì ci sono dei cortocircuiti anche sulle conseguenze tra il piano e le conseguenze anche comportamentali che dà o sul benessere di vita perché se mi isolo sempre di più è chiaro che ho delle conseguenze esistenziali lavoro di meno mi faccio vedere di meno alla lunga posso avere un evento invadilante delle risorse e un esordio voi capite che questa concettualizzazione così schematica ci permette di decidere con ciascun paziente il livello dell'intervento che ha senso con lui perché ci sono dei pazienti ad esempio che se hanno già fatto un lavoro sul tema con terapie precedenti ci chiedono di fare un lavoro esclusivamente sul sintomo quindi noi utilizzeremo le tecniche sintomatiche che conosciamo spiegandogli perché andiamo a lavorare soltanto sul sintomo oppure sul piano a secondo della domanda spesso un intervento sul sintomo di panico porta il paziente a farci una domanda dicendo sì il panico non ce l'ho più però mi rendo conto che ho passato la vita a evitare le cose ci si può lavorare e quindi passiamo dall'intervento sul sintomo all'intervento sul piano utilizzando le strategie efficaci che sono a disposizione di un terapista ben formato e ora aspetta però vorrei che adesso se ci fossero delle domande mi tormento mi fermo un attimo e vorrei che voi perché adesso ho il caso che voi mi facesse delle domande io non vedo neanche la chat più spero che Daniela la veda sì sì lascio avevo spento il microfono volevo dire che per ora c'è solo una Lucia che ti fa i complimenti per come esponi e un'altra che ti appunto dice tutto è molto chiaro è sempre Lucia grazie tante grazie tante io ero convintissima di aver fatto una pessima esposizione perché ieri il mio cane vecchio è caduto in piscina e sta malissimo quindi ero convinta di aver fatto veramente una grazia mi avete consolato domande domande per ora non ne ho se ero specifiche sì c'è Anuti che ti chiede se c'è un collegamento tra i vissuti personali e le credenze punitive tra vissuti personali cos'è che spieghi meglio cos'è una credenza punitiva devo capire la domanda intanto che Anna ti scrive cosa intende per credenze punitive ti arriva un'altra domanda che dice c'è una formazione un testo vabbè chiedono bibliografia sulla Libet sì la Libet sono usciti tre articoli sulla Libet per la rivista di Ezio Sanavio di Cognitivo Comportamentale però ve li possiamo mandare se scrivete una mail ve le mandiamo ma l'articolo internazionale con la prima validazione è adesso lo stiamo mandando adesso con Giovanni Gabriele Malta chiede nel momento in cui il paziente è il terapeuta o il paziente che decidono di lavorare più sul piano o sul tema chi lo decide ne mette se lo fai a questo qui la risposta chiede un po' di buonsenso da parte del paziente cioè se io ho una bulimia acuta in cui mangio tre foglie di insalata al giorno ho un'ipopotassemia e porto un simbottomo di quel genere il clinico deve muoversi di corsa se ho un paziente che l'aspetto doloroso del tema è la cosa che è più interessante non c'è un'alta sintomatologia possiamo decidere di partire dal tema e poi sono anche preferenze cliniche dei pazienti diciamo che in generale nel cognitivismo italiano c'è la tendenza a scagliarsi a occuparsi di mamma e papà e siccome noi però ormai in ufficio arrivano un sacco di pazienti che hanno fatto tante terapie di tipo attaccamentista perché sono passati 40 anni da quando abbiamo cominciato a occuparci di attaccamento io trovo ormai nel mio nuovo modo di lavorare grazie alla Libet molto utile arrivare al piano e cercare di togliere le inflessibilità e le rigidità del paziente e questo lo faccio facendo sempre il rapporto tra quel piano come è stato imparato se questa cosa viene fatta in modo armonico col paziente alla fine del lavoro sul piano ha già capito cosa ha imparato dai genitori quindi il lavoro sul tema è più lieve e meno lungo non ho capito non ho capito Daniela sì sì ho in questo momento connessione partita è tornata allora quella che chiede c'è un rapporto tra il vissuto personale e a questo punto una credenza negativa di autosvalutazione ma certo la domanda è una domanda difficile ma è chiaro che io apprendo a credere perché poi pensiamo sempre che la misurazione è processuale perché tutti noi a volte ci sentiamo cretini e quando è la differenza tra noi e un nostro paziente che arriva da noi e dice non valgo niente che lui ha lui pensa che quel pensiero è molto importante e che deve risolvere questo problema per funzionare mentre io quando mi sento cretina lo accetto e poi so che questa idea passa naturalmente capito anzi forse le persone che funzionano in generale tendono a pensare molto meno a quanto si sentono cretini o meno e stanno più attenti a funzionare cioè le persone che funzionano utilizzano in modo flessibile i piani cercando di porsi meno domande possibili su chi sono anche perché la risposta a questa domanda non esiste siamo come direbbero i reptisti vero Giovanni? Ok l'altra c'è una domanda che ti chiede la paura di morire e di impazzire possono essere dei temi di minaccia quando uno ha paura di morire e di impazzire può essere visto come tema di minaccia? No ovviamente la paura di morire no questo è un pensiero ansioso la paura di morire o di impazzire è un pensiero ansioso quindi bisogna capire da dove viene ma potrebbe anche non essere per niente radicato su un tema di minaccia ma essere radicato su un tema di vulnerabilità dovuto a una mamma iperprotettiva perché il problema di morire il timore di morire ce l'abbiamo a volte tutti ma di solito sappiamo che succederà ma non è qualcosa su cui rimuginiamo per riprendere il paper di Gabriele quindi siamo più nell'area sintomatica il tema di minaccia che è qualcosa che il paziente di solito non ci porta in prima battuta cioè a meno che non abbia già fatto una terapia lo ricostruiamo insieme arrivando a capire com'è cresciuto e quali sono stati gli eventi invalidanti della sua esistenza cosa sono secondo il modello libert i sintomi è un piano che non è un esordio di un piano che per certe circostanze non funziona più io ho sempre funzionato arrabbiandomi con gli altri o facendo il furbacchione ubriacandomi eccetera e improvvisamente mi ha mi è successo con un paziente e improvvisamente mi arrestano e mi fanno la denuncia per tuffa lì c'ho un esordio di panico perché avevo sempre pensato di essere invulnerabile avevo usato sempre un immunizzante e lì non funziona più perché l'accusa per tuffa essendo io cresciuto in un mondo di avvocati mi fa sentire molto molto male e mi faccio un esordio una cosa dice quando quindi la Libet ti chiedono questo interviene principalmente sul coping meno sulle credenze di base dipende dalla domanda del paziente essendo la Libet un oggetto transi agnostico come ho già detto ma lo ripeto volentieri la Libet a volte utilizzo un bravo terapista CBT solo sul panico o solo sulla bohemia oppure a volte c'è una domanda sul piano sono stufo di evitare oppure a volte posso andare a intervenire sulla credenza di base se la domanda è sulla credenza di base ma questo è una discussione che si chiama formulazione condivisa del caso che faccio anche in base alle preferenze del paziente poi c'è sta discutendo sulla vergogna ok alcuni nel senso che dice prova un sentimento forte di vergogna uno che si mette su un teatro e si impersonifica quanto la vergogna a volte non gli permette neanche di guardarsi allo specchio andate calmi un attimo se no non riusciamo a rispondere a tutti che sto tentando di sintetizzare quindi quello che ti chiedono è forse me lo sono perso immergono pensieri fanno c'entra niente insomma stanno ragionando sul tema della vergogna e su qualcuno che potrebbe essere davanti a un teatro però non capisco poi scargati dove vogliate arrivare col tema della vergogna perché si è finito perché alcuni dicono la vergogna la vergogna l'abbiamo tutti e quindi la vergogna è un'emozione normale il problema è se la persona dice passo il tempo a vergognarmi e quindi non esco mai di casa quindi non parliamo di libret parliamo anche di un funzionamento normale tutti noi a volte ci distraiamo a volte ci beviamo un bicchiere di vino di troppo abbiamo i nostri temi dolorosi che sono i libri che vorremmo scrivere come dico sempre e abbiamo dei sintomi ogni tanto perché non c'è nessuno che io conosca che non abbia mai fatto un sintomo il problema è semplicemente a secondo del funzionamento del paziente sapere meglio qual è il target della terapia e monitorarlo volta per volta ecco poi ci sono due quesiti tipo ci sono dei test per andare a identificare i temi uno e l'altra che ti parla dei pensieri suicidari e vorrebbe come si può procedere allora i test noi abbiamo fatto un booklet libret è ovvio che sono tutte cose sperimentali perché siamo in fase di studi pilota anche se noi abbiamo concettualizzato libret ormai 5-600 pazienti perché ci lavoravano da tantissimi anni ed è stato soltanto molto lenta la scrittura dell'articolo internazionale quindi esiste il test che sia è un test analogico che chiamiamo nuvola su cui adesso cominciamo a scrivere l'articolo ed esiste il vecchio booklet che insegniamo nelle nostre scuole invece sui pensieri suicidari il pensiero suicidario detto così non è niente perché può essere il timore di un pensiero in un grave ansioso o può essere un pensiero prima di un atto di un grave depresso quindi è chiaro che io vi sto dando una spiegazione astratta che va applicato al contesto clinico ok c'è poi un'altra domanda perché le altre sono tutte di richiesta di raccontare il caso il caso mi racconto un caso perché è un caso in corso molto bello e così poi allora chiudo la chat allora questa qui è una donna molto bella avvocata di un certo successo sola è alto 1,85 bella strana ma bella in due anni negli ultimi due anni suo padre muore sua madre viene operata di una grave tumore alla mammella che siccome è ansiosa ci va tardi a fare la diagnosi e lei alla sua età ha un carcinoma alla mammella con ricostruzione del seno in più il suo ragazzo molto più giovane di lei la lascia dicendo che ha quasi 20 anni meno di lei quindi è chiaro che non era molto promettente come storia la lascia dicendole sei diventata vecchia ho voglia della mia libertà lei c'era stata insieme un anno un po' avevano convissuto soprattutto lui aveva invaso la sua casa perché aveva bisogno di aiuto lei ha una depressione grave pensieri suicidari e lo domanda di terapia riguarda la depressione dovuta a tutti i barbi accumulati in cui prima c'è questa cosa di vedersi il suo corpo non più bello com'era è anche grande e anche questo abbandono di questo ragazzo da un lato quindi io mi trovo davanti una donna di successo tutta elegante stimata con amici in tutto il mondo appassionata di arte di barca a vela e dall'altro lato una donna dolente e confusa con una completa incompetenza a riconoscere e esprimere le sue emozioni in modo chiaro aveva avuto chiaro che la storia con il ragazzo più giovane di lei e vedeva le difficoltà ma si era messa in gioco lo stesso mitizzandosi e mettendosi completamente a sua disposizione accudendolo e mantenendolo per un anno io ho sempre fatto così lui è un artista e io lo devo aiutare devo sempre aiutare gli altri perché per me è molto importante vedermi come una che aiuta gli altri quindi lei si raccontava questa come bontà a una brava indagine risulta che questa era la modalità affettiva di tutta la vita quindi o questa o l'unica volta che aveva avuto un uomo con cui lei poteva stare poteva rimanere in anni più giovani più fertili lei si era stufata e lo aveva lasciato rendendosi soltanto con me si rende conto che questo vuol dire qualcosa incontra un ragazzo lo reputa un genio fa una fantasia materna di salvazione accudimento e dipendenza assoluta mette completamente la sensazione che lui c'è qualcosa che non va che o la risonanza di alcuni comportamenti che lui che questo uomo fa fin da subito facendo una fantasia di fusione e di salvezza assoluta ok a questo punto la rottura è giustifica che è avvenuta con questo cazzo ormai lei è grande giustifica la depressione e le sue fantasie suicidari ok la storia familiare lei è cresciuta in una famiglia benestante con un padre violento e imprevedibile lui dire violento è poco un sadico che ha costantemente sottoposto sia lei che oggi questi ragazzini sarebbero stati tolti dai servizi sociali ad esempio lei per un anno o due anni viene costretta a non mangiare a tavola con la famiglia veniva portato e nessuno doveva parlare con lei e in adolescenza o preadolescenza lei doveva stare in piedi in bagno per un'ora ogni giorno per un mese era vietato parlare con il figlio maschio per un anno sprezzante umiliazioni aggressioni aggressioni improvvise botte in modo imprevedibile cioè quando lei andava a parlare con il suo padre che lei ha mitizzato perché è stato un uomo di successo nel suo lavoro e un grande manager era terrorizzata a volte si faceva la pipì addosso quindi questo è un tipo di storia familiare estrema di minaccia una madre affettuosa ancora vivente e malata fragile che non è mai riuscita e non solo anzi siccome era così imparosa di lui che faceva terrorizzare anche lei si è sempre schierata con il marito quando il marito due anni fa muore curato da tutta la famiglia fino all'esari finalmente finalmente può avvicinarsi ai figli che ormai hanno 58 e 47 anni il fratello della paziente è sposato e obeso e fuma 80 sigarette al giorno e anche lui estremamente sofferente i due sono vicini tra di loro ma sono due persone estremamente danneggiate la paziente ha una libet con questi temi alla testistica abbandonata sola minacciata che sono dolorosi c'è una noi abbiamo una misurazione di processuale che è da 0 a 10 ed ha una estremamente condizionante estremamente dolorosi ed ha un piano prescrittivo che è soprattutto sugli altri che è quello che noi definiamo la compiacenza e un piano immunizzante sognare molto in modo irrealistico nei rapporti con gli altri addirittura sognandoseli neanche chiedendo mai chi sono o fare ginnastica ore al giorno o bicicletta per non pensare o arrabbiarsi questi piani lei li considera abbastanza legittimi quando mi chiede aiuto un po' meno utili perché perché si rende conto che l'hanno danneggiata nel rapporto con gli altri ma questa è una cosa io la vedo da poco tempo anche purtroppo grazie al covid però si vede che un po' di lavoro abbiamo fatto tre fasi della terapia quindi non è una terapia di un anno diciamo che è una terapia di tre fasi che ad ora vi racconto l'esordio è dovuto alla concomitanza degli eventi descritti ma per lei le due cose più dolorose sono il tumore alla mammella e l'abbandono del ragazzo la prima fase cerchiamo di lavorare su questo piano di compiacenza in che all'inizio lei mi fa vedere ma poi lui ha incomincia a stare male e va a vivere a casa di lei e lei gli lascia la casa e non ci sono cavoli perché lei va a vivere dalla sua madre poverino ha bisogno e molto faticosamente al terzo mese in cui lei sta dalla madre che veramente e che praticamente in terapia siamo completamente tornati indietro all'inizio lei incomincia a dire che forse è meglio che tu e via fino a quando lui se ne torna grazie a dirlo a lavorare fuori in un'altra città italiana e lei si rende conto di questo piano di compiacenza ma non ha nessuna altra idea di cos'altro può fare e questo piano relazionale di controllo è un prescrittivo lei lo fa sia con gli onimi ma che nelle aree di lavoro lei ha non è mai stata non ha mai fatto una trattativa di lavoro cioè è sempre lì a dire sarò bravissima e alla fine tu mi premierai in cui c'è anche un aspetto fantastico che alla fine se lei non parla e ubbidisce in modo come la dipendenza fino all'abominio verrà premiata cosa che non accade mai lo scopo del piano a lei è chiaro ma considera la compiacenza e la dipendenza incontrollabili e moralmente migliori dell'indipendenza perché quando poi ci lavora con me lei dice ma io voglio essere buona quindi è legittimo ed è l'unico modo per essere accettata non abbandonata voluto bene il contatto col tema è insopportabilmente doloroso e quindi finora è come se ci oghi tanto facessimo un balletto in cui lei dice sì sì io mi ricordo come stavo in stanza lì però siamo ancora molto lontani a poter fare un contatto col tema lei non si è mai curata la seconda fase della terapia è una volta compreso un po' meglio che c'è un collegamento tra piano e tema di vita bisogna fermarsi perché perché la paziente se non compiace o se non sogna non sa come si fa quindi noi cominciamo a ridurre le compiacenti in tutti i contesti e sono esercizi comportamentali non tacere interrogarsi quando i suoi amici dicono andiamo a vedere questo film fermarsi ma che film mi andrebbe cioè è come una educazione oppure quando qualcuno mi fa una repotenza questo ragazzo girano insieme per Milano lui è ospite a casa di lei lei è andata alla mano e il ragazzo dice certo che siamo ridicoli insieme tu sei così vecchia io sono così giovane quando lui mi dice questo che effetto mi fa lei dice ma all'inizio io non mi rendevo conto è come se avessi solo un po' di mal di pancia e quindi anche identificare che forse questa cosa ti fa arrabbiare osservare quando gli altri sono capaci di decidere in modo indipendente la caduta della compiacenza lascia tristezza e rabbia è un vuoto strategico insieme alla consapevolezza della sua incapacità e in fondo è dove siamo adesso e sarà una fase molto lunga perché perché bisogna sperimentare interesse riconoscimento e capacità di comprensione delle emozioni altue e proprie per molto tempo inventare di sana pianza un modo possibile di stare vicini anche se si ha paura quello che dico io la prossima volta che lei esce con gli amici vede un genio di uomo con il chiodo con una Haley Davidson fichissimo cattivissimo lei non le interessa lasci perdere e vediamo se c'è qualcosa se piano piano impariamo ad apprezzare il normale il normale vuol dire qualcuno che è sinceramente interessato a me che è il parametro che lei non ha mai imparato quindi lì c'è una e quindi che stiamo imparando adesso in terapia anche nel rapporto insieme il lavoro di critica alla compiacenza il tentativo di esprimersi è stato lungo e faticoso e non è finito lei si definisce io sono una bambina che non sa niente una bambocciona in questa farce il piano immunizzante emerso nelle ultime sedute emerge perché lei ha conosciuto un altro avvocato simpatico e si mandava dei messaggini e quindi lei diceva lei rispondeva a volte sì se i messaggi gli piacevano a volte no se non gli piacevano però lei ha l'idea che le persone di genio sono le uniche divertenti perché a me le persone non mi piacciono e voi capite la disabilità che ha lei il genio è il genio padre che mi tratta sicuramente mi tratterà male e io dovrò sognarlo o con piacere questa tendenza a non vedere gli altri che è il suo piano immunizzante è anch'essa una meta che avremo in futuro della terapia io vorrei che voi vedeste quanto è chiaro il piano clinico anche se è difficile descriverlo sono lavorato un sacco perché era in corso come sta adesso la paziente sicuramente sul sintomo prende medicine non è più depressa e anche quando è triste capisce che è triste perché ha fatto per tante cose volte nella sua vita cose che l'hanno danneggiata è maggiormente capace di esprimere i suoi stati d'animo ad esempio c'è questo avvocato che un po' a lei gli piaceva che però alla fine faceva troppe battute sessuali o troppe battute e poi spariva che lei ha detto vabbè insomma mi sembra il solito e quindi devo stare sola per ora e cercare di stare da sola e vedere cosa voglio di fare cosa voglio di conoscere e quanto voglia di aprirmi agli altri a incontri con uomini autonomi non geniani più normali ma ovviamente in questo momento ancora da sola ok si sente a volte sola e triste e teme di meno questi stati d'animo che considera accettabili e comprensibili data la sua storia nel lavoro stai cominciando oggi mi ha portato l'idea che aveva ecco questa è la sua schema che lei aveva la voglia di smettere questo suo lavoro di avvocato che è un po' sterile perché fa l'avvocato aziendale e dopo il covid lei si è resa conto che c'è una serie di problemi anche nei paesi in via di sviluppo nelle organizzazioni e ha voglia di vedere siccome lei dice in fondo io aiutare gli altri l'ho sempre fatto in modo patologico oggi mi ha lasciato dicendo devo trovare un modo non patologico per fare una cosa che per me è importante aiutare gli altri o mettermi a disposizione con gli altri questo è l'ultima slide come un padre sadico e una madre depressa una sensibilità alla minaccia uno stato questo stato terrifico lo risolvo compiacendo così mi salvo ho troppo paura e devo risolvere evitamento protezione non mi esponevo a rapporti strisciavo per essere accettata sognavo di essere felice con un uomo perfetto mi sono sentita sola quando le cose sono andate male isolata in una vita affettosa affettiva orrenda umiliante alla lunga perché questo ragazzino l'ha anche umiliata l'evento invalidante sono la morte di papà mamma il cancro Giovanni mi lascia depressione pensieri suicidanti lo vedete questa bellissima scheda gabriellesca vi fa vedere quanto è semplice questa formulazione e vi consente e vi conduce all'intervento clinico adesso io faccio uno stop share ed eccomi di nuovo qui con voi se ci sono domande se no possiamo anche chiudere ci sono alcune domande che devo dire allora al di là dell'essere interessante grazie mille c'è una prima domanda di Elisa che ti pone la somiglianza tra il modello Libet e la schema terapia di Young dicendo c'è uno studio comune ci sono delle integrazioni tra i due modelli e questa è la prima ma di questo scusa Giovanni di questo parlerai tu o no Giovanni no vabbè sì penso che anche la dopo sia di Giovanni perché scusate dice mi permetto usare io però vi giuro vi giuro che non lo so non lo saprei l'analogia fra piano e tema con ingiuzioni e spinte di Bern non conoscendo io Bern faccio molta fatica il lavoro della transazionale è un lavoro molto interessante che purtroppo non è stato ancora non ci si è lavorato molto in ricerca noi c'è un aspetto di Young che a noi non piaceva da tanti anni ed era l'aspetto tutto sul tema mentre noi l'aspetto era quello molto vicino alla compassione e alla consolazione sul tema mentre noi da tanto tempo eravamo interessati agli aspetti di interventi sui piani questo non ci impedisce di fare interventi sui temi ma e poi noi non siamo una terapia non abbiamo l'ambizione di essere un ennesimo noi vogliamo poter usare delle la schema terapie per alcune aree interessanti ad esempio sul tema se il paziente lo richiede così come vogliamo poter usare la CBT se è un paziente su un sintomo o la MCT e basta se è un paziente in cui l'intervento sublime è soltanto sugli aspetti di pensiero ripetitivo quindi la Libet è una sorta di scheletro transdiagnostico che ci permette di condurci a scelte strategiche coi pazienti molto economiche e chiare ok altri sono complimenti quindi direi grazie alla dottoressa Sassaroli e a questo punto sempre in perfetto orario darei la parola al dottor Giovanni Ruggero e ricordo il titolo che è che Libet le dimensioni della personalità grazie grazie mi sentite sì sì va bene allora per quanto riguarda il rapporto della Libet con le dimensioni della personalità io comincio così in qualche modo rispondo anche alla domanda sulla schema therapy sul rapporto Libet personalità e modello cognitivo classico in che modo così si comprende anche l'operazione della Libet che è un passaggio dal modello cognitivo classico ma anche un suo recupero recupero culturale nel senso che riteniamo che ci sono alcuni aspetti che rischiano di essere trascurati mentre invece è giusto accanto alle giuste critiche che sono state fatte a questo modello non metterlo completamente alle spalle soprattutto per gli allievi le giovani generazioni che hanno bisogno di imparare le basi mentre invece una fuga in avanti può portarci verso una trascuratezza verso questo apprendimento di base che rimane fondamentale ora sicuramente nel modello cognitivo classico ci sono alcuni aspetti che permangono e che tra l'altro li troviamo pure nel DSM tra cui questi qua che sono quelli che troviamo nel libro di Beck Freeman sui disturbi di personalità che tra l'altro possiamo annunciarlo già qui ecco questo è un aspetto di una certa trascuratezza non era stato tradotto o era stato tradotto e è andato fuori catalogo in italiano o comunque l'edizione 2015 l'ultima non era stata tradotta e adesso verrà tradotta a cura del nostro gruppo quest'anno chiaramente non sono concetti rivoluzionari anzi sono stati integrati in seguito ma sono ancora utili le esperienze precoci dolorose esperienze però non traumi la centralità del problema interpersonale di cui poi provengono difficoltà affidarsi degli altri asserire le proprie ragioni ora e tutte queste difficoltà esperienze apprese predisposizioni si cristallizzano come sappiamo in credenze centrali cioè definizioni di se stessi questo concetto è importante al tempo stesso però ha portato qualche volta a trascurare l'altro concetto principale del modello classico ecco le definizioni di se stessi che poi diventano i temi nella Libet o diventano anche per altre strade i deficit in altri modelli deficit traumatici ma anche nella schema therapy gli schemi centrali sono definizioni di se stessi che descrivono il nostro modo di stare al mondo relazionarci con gli altri se usati in maniera economica ecco e qui cominciamo a introdurre dei concetti funzionalistici sul rimuginio che poi vengono sviluppati nella Libet sono utili sono strumenti parzialmente utili per conservare informazioni sulla modalità per relazionarci con gli altri quindi definire se stessi e gli altri in parte è utile naturalmente come tutte le definizioni tende però a cristallizzarsi queste cristallizzazioni che poi in definizioni rigide che poi è il rimuginio hanno un vantaggio momentaneo ma anche svantaggi alla lunga per esempio è dimostrato che qualunque spiegazione abbastanza definitiva su se stessi e gli altri anche quelle negative ci porta un sollievo momentaneo che forse è il sollievo che ci dà il rimuginio è stato proprio dimostrato che proprio avvengono delle delle sorte di gettate endorfiniche nella circolazione del sangue proprio le endorfine un piacere ogni volta che troviamo una spiegazione apparentemente definitiva per qualcosa ci tranquillizziamo anche a livello percettivo tuttavia ogni spiegazione definitiva alla lunga anche un ostacolo va a finire che anche le credenze centrali che poi tra l'altro sono di tipo negativo diventano degli ostacoli servono solo a fornire sollievi emotivi momentanei illusioni di controllo ma poi ostacolano la crescita insomma se di fronte a una prova da affrontare ci sentiamo naturalmente messi alla prova è molto rapido il passaggio dall'essere messi alla prova al dirsi sono stupido sono stupida il problema è che questo sentirsi stupido per un attimo ci dà perfino un sollievo beh almeno c'è una spiegazione tuttavia notiamo bene come è molto facile il passaggio da una sana allerta devi affrontare una prova preparati alla paralisi non ce la fai ecco quindi come la cautela nel rapporto con gli altri diventa timidezza l'audacia diventa arroganza qui abbiamo una tavola abbastanza utile che poi ritroviamo in altri modelli anche in maniera molto simile su queste varie autoistruzioni negative che ci diamo continuamente di cui parlava anche Sandra prima non mi dilungo su questa tavola in qualche modo poi sono diventati i vari temi su cui stiamo lavorando e che stiamo anche validando da notare questa tavola che è poi la tavola di Judith Beck nel libro Cognitive Therapy Basics and Beyond è stata data un po' per scontata e non è stata mai del tutto validata quindi l'operazione di validazione che noi stiamo facendo sui temi nella Libet di cui stiamo concludendo il primo articolo è anche una prima vera validazione di questo modello molto diffuso e anche di altri modelli sulla personalità molto diffusi ma mai del tutto comprovati né del resto noi daremo una validazione definitiva però facciamo un passo avanti bene parlo molto rapidamente delle credenze intermedie cioè una volta che abbiamo una definizione di noi stessi dobbiamo poi fare qualcosa e fare qualcosa attraverso le credenze intermedie sono le coping strategies e i safety behaviors che poi diventeranno i piani cioè quello che facciamo abbiamo conservato delle informazioni su noi stessi e sugli altri come definizioni di sé e degli altri e poi abbiamo anche delle altre informazioni su quello che dobbiamo fare che in teoria dovrebbe essere qualcosa di utile e funzionale ma partendo dal presupposto che alcune credenze di sé si sono cristallizzate in definizioni negative va a finire che anche i corrispondenti comportamenti le coping strategies finiscono per essere altrettanto disadattive e quindi abbiamo l'evitamento il controllo ossessivo ma soprattutto la reazione aggressiva che poi abbiamo chiamato o anche desiderante che poi abbiamo chiamato nella libert piano il rapporto poi tra core beliefs e temi e coping strategies e piani vedremo sarà il rapporto tra modelli cognitivi classici e modelli funzionalistici il problema sta tutto lì se una definizione di sé è solo un segnale inevitabilmente negativo perché i segnali non possono essere che essere negativi c'è qualcosa che non va bisogna provvedere sono un buon stimolo se invece diventano una definizione di sé diventano qualcosa di cui abbiamo paura ecco il famoso concetto del tema da evitare non più da usare se quindi una una prova che devo affrontare una prova sociale andare a parlare con amici che mi interessano amiche affrontare un esame diventa un'esperienza dolorosa insopportabile va a finire che almeno momentaneamente mi dà più sollievo evitare o controllare essessivamente piuttosto che mettermi in gioco e qui purtroppo finiamo quindi nei safety behaviors nei comportamenti di sicurezza ecco quindi un modello abbastanza simile a quelli che faceva prima Sandra sono vulnerabili se ci pensiamo bene non c'è nulla di irrazionale nel reputarsi vulnerabili siamo effettivamente vulnerabili la credenza intermedia se mi fido degli altri mi feriranno già è messa in una maniera molto patologica a suo modo è una piccola verità ma non nel senso che mi feriranno in maniera definitiva uccidendomi certo entrare in rapporto con gli altri vuol dire anche essere in parte feriti però anche in parte gratificati in un rapporto che ora positivo ora negativo naturalmente se però la vulnerabilità dà segnale di stimolante mettiti in rapporto con gli altri cresci diventi diventa più forte ma anche al tempo stesso più maturo più bilanciato accetta le critiche che ti fanno ma anche al tempo stesso non fartene condizionare tutto diventa abbastanza tollerabile e anche addirittura occasione di crescita se in questa piccola verità però ce ne facciamo troppo condizionare va a finire che preferiamo evitare i rapporti oppure reagire aggressivamente a ogni segnale relazionale ecco qua ho messo due esempi tratti da Judith Beck Maria e Gianni ora il passaggio è questo basti per quanto riguarda il modello cognitivo classico uno potrebbe il passaggio ai disturbi di personalità è stato abbastanza interessante naturalmente come sappiamo inizialmente esso fu applicato ai disturbi d'ansia dove aveva una sua linearità che ne ha generato il successo qual era la linearità che vi erano credenze centrali sul sé dolorose ma al tempo stesso non estremamente gratificanti l'ansioso che ha paura di mettersi alla prova ritiene di non essere adeguato di non essere all'altezza e basta non è poco ma nemmeno moltissimo in fondo viene in terapia speranzoso di trovare qualcuno che gli dimostra che lui è adeguato se notiamo bene nell'adeguatezza non c'è un senso di esclusione e di espulsione lui è nel gruppo non è proprio nel gruppo centrale diciamo così nella media si ritiene un po' al di sotto della media ma si sente comunque abbastanza accolto nel consesso sociale non ritiene di essere all'altezza ma spera di esserlo quindi è già molto alleato col terapista anche i suoi comportamenti di sicurezza sono dei sollievi anche quelli però sono dei sollievi veramente poco gratificanti non andare a fare un esame non prendere i mezzi pubblici perché ho troppa ansia non mi dà nessuna particolare gratificazione se non quella di evitare lo stress insomma il paziente è tendenzialmente alleato questo aveva fallicilitato il modello cognitivo classico per cui i problemi erano solo degli errori logici mi sento adeguato mi sento inadeguato ma in realtà lo sono è meglio evitare ma in realtà è meglio no quindi sembrano solo errori logici sul contenuto cognitivo non era necessario un modello più complesso sul timore di entrare in contatto con le proprie zone vulnerabili e l'apparente errore di cercare un sollievo nel piano l'errore emotivo e non logico di cercare un sollievo nel piano nei disturbi di personalità ammesso che sia valida questa distinzione così forte noi in parte l'accogliamo in parte no le cose diventano un po' più complesse prima di tutto le credenze non sono più su mezzi pubblici situazioni abbastanza impersonali esami prove prestazioni si tratta di entrare in rapporto stretto con gli altri con tutta la congeria di continue provocazioni micro-provocazioni ora gratificanti ma ora anche molto fastidiose irritanti che significa stare in mezzo agli altri quindi già inoltre la credenza sul sé il senso di inadeguatezza comincia a diventare qualcosa di più grave il senso di esclusione questa persona con il disturbo di personalità non si sente solo non all'altezza ma all'interno del gruppo si sente espulsa esclusa è un dolore estremo nella Libet parliamo di indegnità e non di inadeguatezza in questo caso inoltre poi c'è anche il problema che le credenze non sono solo di sé ma anche sugli altri e vedremo che questo è un aspetto molto interessante ecco e soprattutto i comportamenti di sicurezza i piani hanno un aspetto gratificante da non trascurare in quanto che si tratta non più soltanto di ritiro evitante ma c'è un forte aspetto aggressivo che ha la sua componente attiva un senso di forza non a caso in inglese questa parola empowerment il disturbo di personalità anche quello più evitante o dipendente in realtà comunque ha in sé una componente aggressiva che è molto più scarsa dell'ansiosa e che fa sentire che dà un senso dà un senso al paziente e che quindi in qualche modo lo lega di più ai suoi aspetti più disfunzionali insomma alla fine il paziente deve rinunciare a qualcosa di più vantaggioso rispetto a quello che deve rinunciare l'ansioso le credenze sugli altri diventano molto più importanti gli altri vengono giudicati in maniera negativa insomma gli errori logici a cui deve andare incontro il paziente in terapia cognitiva sono degli errori logici con un aspetto emotivo e relazionale molto intenso si tratta di cominciare a dire che non è vero che è sempre colpa degli altri che non è vero che tu sei solo ingiustamente maltrattato sei oggettivamente maltrattato ma questo non può bastare a creare delle alternative ricordiamoci mentre l'ansioso si sente inadeguato e quindi non aspetta altro che la gratificazione dell'altro che gli dica lo sei questo disturbo di persona si sente ingiustamente espulso di conseguenza non gli basterà essere riaccolto forse non ci spera nemmeno ha bisogno che l'altro ammetta di avere sbagliato insomma siamo in una situazione di forte conflittualità che poi in termini funzionali vedremo si trasforma in una maggiore positività del rimuginio ci sono delle aspettative manipolatorie sugli altri dalla terapia eccetera tutto questo però devo dire in parte è esagerato nel senso che noi prendiamo tutte queste riflessioni dalla cosiddetta letteratura sicuramente interessante del paziente difficile in cui questi aspetti sono molto presenti e che sono stati derivati dalla letteratura psicodinamica non voglio attaccare adesso per l'ennesima volta la teoria psicodinamica a cui comunque dobbiamo molto in cui però c'era questa visione del paziente come colui come qualcuno in fortissima tensione col terapista in fortissima conflittualità in modo che sia un po' diffusa questa visione del paziente che da un momento all'altro ci abbandona il paziente difficile basta un momento un errore e ci molla quando poi se noi riflettiamo bene sulla nostra esperienza clinica questi pazienti possono essere molto impegnativi anzi lo so possono essere a volte molto difficili a gestire ma gratta gratta tutta questa tendenza poi ad andarsene improvvisamente ad abbandonare in massa il terapista non so io sinceramente come esperienza personale non l'ho vista né poi l'ho sentita riportare in tante supervisioni in cui sono stato ho sentito sempre di pazienti molto impegnativi ma da qui a dire che se ne vanno subito in realtà mettono molto alla prova il terapista questo è vero mettono molto alla prova qui ci sono tutte le varie tipologie che naturalmente adesso non non ripercorro se non molto velocemente come potete vedere però c'è una tutte queste sono quelle del modello sempre di Beck in cui accanto alle credenze su sé ci sono le credenze sugli altri quello che possiamo notare è che gli altri sono un po' il cattivo della situazione il cattivo della situazione che in qualche modo giustificano la sofferenza ecco quindi il paziente con disturbo di personalità al tempo stesso è escluso indegno ma forse ingiustamente indegno quindi c'è sempre una particolare dialettica tra il sentirsi svalutato ma in realtà mi hanno svalutato ingiustamente e quindi la terapia vorrebbe dire che in realtà io dovrei rivalutare l'altro quello proprio che mi ha cacciato ingiustamente proprio con lui insomma è un'operazione molto delicata io sono indegno ma attenzione sono ingiustamente indegno quindi vorrei che fosse riconosciuta che la mia indegnità è stata fatta mi è stata applicata in maniera ingiusta cosa che tra l'altro il terapista è più che disposto a fare per carità anzi su questo siamo molto preparati molto vogliosi di validare attenzione che però il paziente sempre in questa accezione il paziente è difficile e poi ripeto non è poi così difficile da un momento all'altro almeno alcuni disturbi non tutti però se teniamo conto per esempio il passivo aggressivo lo stesso evitante nel quale sono stati trovati non a caso alcuni aspetti in realtà attribuiti un tempo al cosiddetto narcisista cover ma anche il cosiddetto dipendente per non parlare poi del border o del paranoide o del narcisista può rimanere infastidito anche dai nostri interventi validanti cioè come abbiamo detto lui non si fida tu mi stai dicendo di rientrare nel gruppo ma chissà se è vero d'altronde tu fai parte degli altri quelli che mi hanno cacciato fuori quindi è tutta una manovra diciamo così a volte non facile in realtà sono tutti rimugini sugli altri ecco e così arriviamo alla svolta quindi inutile star qui anche perché non ci sarebbe il tempo a vedere proprio tutti gli studi di personalità uno per uno in cui la diffidenza c'era un libro di uno psichodinamico a cui abbiamo avuto molto da imparare che si chiamava se non erro la sfiducia e la diffidenza sabbaurefice su cui abbiamo imparato molto su questa relazione con questi pazienti qui bisogna stare attenti sempre almeno in alcuni casi se tento di avere una relazione con gli altri non funzionerà perché c'è qualcosa di sbagliato in me o negli altri se emerge un problema in una relazione non potrà essere risolto se non sono aggressivo con gli altri mi controlleranno se mi apro con gli altri mi feriranno ecco queste sono tutte cose che potremmo dire tutte cose cui applicare delle riattivazioni comportamentali degli esperimenti classici di esposizione in cui però l'obiettivo non è tanto apriti e vedrai che non ti feriranno perché tra l'altro un paziente dicesse questo è un disturbo di personalità andrebbe facilmente smentito l'obiettivo è più che altro apriti con gli altri qualcuno qualche volta ti ferirà puoi tollerarlo è un'operazione più complessa se poi riesci a tollerarlo vedrai che nel rapporto con gli altri sono anche degli aspetti positivi gratificanti in cui non sempre ti feriscono ma ti sanno anche essere vicino e darti qualcosa però non ti aspettare un rapporto idilliaco c'è una vecchia come si dice metafora molto utilizzata in psicoterapia quella dei porcospini nella notte d'inverno porcospini nella notte d'inverno soffrono di freddo tuttavia se si avvicinano troppo per scaldarsi a vicenda si pungono anche questa è una metafora abbastanza stressiva sul rapporto con gli altri stare troppo da soli ci dà freddezza proprio nel senso che ci sentiamo soli abbandonati stare troppo vicini arrivano le punture proprio in questi giorni per esempio ho sentito un mio vecchio amico al telefono che ha sofferto molto per il covid per la quarantena la cosa più strana è che questo mio amico è stato sempre una persona che in mezzo agli altri è il tipico ipercritico cioè sta in mezzo agli altri e critica tutti e poi rimugina poi magari mi telefonava dicendo questo ha detto questo quell'altro ha detto quell'altro interessante sentire quella stessa persona che aveva sempre rebutato il tipico ipercritico quindi penso ma che ha sofferto probabilmente più della media la quarantena come del resto forse giusto al mio amico gli mancano i suoi cari amici da poter criticare come al solito vabbè qui ci sono una serie di altre credenze che non sto qui a ripercorrere il vecchio modello del diario dei pensieri della terapia cognitiva era molto utile ed era un po' diciamo così il il bene e il male della vecchia terapia cognitiva in cui le situazioni venivano valutate si valutavano poi i pensieri automatici e le reazioni emotive quello che però era interessante nel vecchio modello e che vogliamo recuperare nella libetti infatti non è tanto non è solo il diario dei pensieri ma era il vecchio questioning che prove hai per dire che gli altri ti vogliono sempre ferire che prove hai per dire che gli altri sono sempre insopportabili oppure che gli altri ti ritengono indegno ti rifiutano eccetera eccetera ma era il vecchio ecco questa è una cosa che è stata un po' trascurata che stiamo recuperando attraverso la libetti il vecchio diagramma di concettualizzazione che forse era più importante del questioning cioè di quell'intervento cognitivo che è stato così criticato per essere troppo razionalisti in cui le varie situazioni se vedete nella metà inferiore del foglio venivano venivano analizzate con qualcosa che noi spesso in Italia abbiamo chiamato l'ABC le situazioni pensieri automatici vedete sono messi tutti di fianco alle altre in verticale varie situazioni nella metà inferiore del foglio dopodiché venivano ribaltate e questa operazione di ribaltamento era fondamentale per costruire l'alleanza terapeutica nella metà superiore nelle core beliefs che poi diventeranno nella liberti temi e poi nelle copying strategies nei piani questo può sembrare uno schema abbastanza astratto ma riflettiamo un attimo nella realtà della seduta clinica dopo che abbiamo compilato prima la metà inferiore del foglio con varie situazioni chiediamo al paziente adesso sintetizziamo tutti i suoi vari pensieri in un unico pensiero centrale che in qualche modo sintetizza come lei vede se stesso e gli altri naturalmente tra l'altro se leggiamo bene qui è scritto un po' in piccolo ci sono pure i relevant childhood data dove l'hai imparato direbbe Sandra i dati rilevanti dell'infanzia e sotto poi mettiamo le copying strategies e una volta che tu pensi questo di te stesso e gli altri cosa farai ma il vero passaggio fondamentale che poi costruiva il rapporto terapeutico era ma tu finora hai pensato che in certe situazioni hai riportato a pensare certe cose e quindi a reagire in una certa maniera che non ti aiuta ma adesso e questo è ben rappresentato nella metà inferiore del foglio ma se tu guardi la metà superiore del foglio la prospettiva si ribalta se tu parti dal presupposto di sentirti indegno che quindi diventa la base di partenza e non di arrivo come finirà che ti comporterai? quindi si invitava il paziente a ribaltare la prospettiva e forse questo è il vero intervento centrale più del che prove hai per sentirti indegno ma ecco questo è un intervento funzionale il problema non è che prove hai per sentirti indegno e quindi se ti conviene veramente farlo dal punto di vista logico ma se tu pensi in partenza di essere indegno anzi per essere più chiari come verrà detto poi in seguito se tu rimugini in partenza sul fatto di essere indegno come finirà che ti comporterai cioè quello che voglio dire che nel diagramma di concettualizzazione cognitiva di Beck sia pure in maniera involontaria era già presenta la svolta funzionalistica in cui ciò che conta è il trigger di pensiero iniziale su cui rimugini che poi condiziona le tue reazioni disfunzionali ecco io penso che sia ecco vedete la metà inferiore in cui le situazioni generano i pensieri e poi si ribattava nella metà superiore in cui sono i pensieri che generano le situazioni e le nostre reazioni e c'erano pure i dati dell'infanzia questo in qualche modo e su questa base si costruiva l'alleanza terapeutica questo in qualche modo ci aiuta anche a capire una cosa la vecchia terapia cognitiva con i suoi limiti non era affatto inefficace per i disturbi di personalità in quanto che costruiva una buona alleanza in cui ciò che contava non era tanto che prove hai ma vediamo un po' come ragioni e questo dove ti porta era un po' il famoso significato personale tanto è vero che i dati non hanno mai dimostrato che la terapia cognitiva fosse meno efficace dei disturbi di personalità era solo altrettanto efficace degli altri modelli il che era un po' deludente nel senso che ci si era un po' abituati male con la prevalenza che abbiamo usato un po' sempre come una clava della terapia cognitiva per i disturbi d'ansia dicendo sempre come del resto confermava la letteratura che fosse più efficace per quanto riguarda i disturbi di personalità si limita ad essere altrettanto efficace che non è poco ma non è vero e questo dobbiamo ricordarcelo che siccome non è più efficace allora diventa meno efficace se ci pensiamo bene qualche volta molti di noi si sono abbandonati a questa sorta di sillogismo emotivo siccome non è vero che è più efficace vai a vedere che è meno efficace questo dato non è non è saltato fuori se non è se se mai è uscito fuori che alcune psicoterapie sviluppate più recentemente come la terapia dialettico comportamentale siano un po' più efficaci su alcuni aspetti importanti ma non unici come per esempio il rischio di suicidare tutto questo per dire che il futuro ci aspetta qualcosa in cui bisogna lavorare sulla formulazione del caso e in qualche modo noi abbiamo ritenuto che questa formulazione del caso e condivisione della formulazione del caso fosse qualcosa che andava ritrovato nella vecchia terapia cognitiva è riproposto poi in quello che chiamiamo la Libet cioè è probabile che effettivamente la vecchia terapia cognitiva di Beck funzionasse bene perché riusciva a formulare a condividere il caso in maniera esplicita e molto chiara per il paziente con questo foglietto così banale come il il cognitive diagram che voglio riproporvi e che in qualche modo riproponiamo con la Libet il paziente aveva di fronte a sé una spiegazione del suo malfunzionamento ma anche un razionale del trattamento il questioning razionale non funziona perché un terapista impone logicamente una nuova realtà al paziente ma perché lo invita a assumere un'ipotesi e a criticarla lui in prima persona il razionale del trattamento che gli viene proposto è ci sono alcuni errori logici puoi metterli in discussione non sono messi in discussione in maniera oggettiva ma è una tua operazione mentale volontaria una scelta che tu puoi fare di ragionare in maniera diversa certo tutto questo avveniva in maniera non del tutto consapevole nuove terapie funzionalistiche a cui si ispira anche la ribet come formulazione del caso invece suggeriscono che il nuovo modo di lavorare con il paziente non è più ti mostro un errore logico e tu cambi ma ragioniamo insieme sul tuo funzionamento e tu ti accorgerai che hai più controllo di quello che ritiene sul tuo funzionamento mentale e questo più o meno è quello che stiamo facendo infine con la libet come formulazione del caso e che in genere stanno facendo le varie terapie funzionalistiche di cui ho già parlato bene meglio di me Gabriele Caselli di cui ne cito alcune soprattutto l'acceptance commitment therapy l'ACT e poi noi conosciamo bene la terapia metacognitiva di Wells ecco qua ho già anticipato in parte quello che è scritto in questa diapositiva la patologia non dipende più dai contenuti cognitivi ad esempio sono stupido ma dall'atteggiamento verso i contenuti cognitivi do troppa attenzione al pensiero sono stupido se non dipende più dai contenuti cognitivi la terapia a sua volta non dipende più da una correzione di contenuti cognitivi ma da un rendere consapevole il paziente dei propri atteggiamenti mentali ma soprattutto della sua capacità di gestire volontariamente questi atteggiamenti mentali questo più o meno l'ho già detto questa funga in avanti però poteva essere a volte un po' come dire non facilmente digeribile per chi si era formato nel vecchio modello quindi in fondo temi e piani in questo ci sono sicuramente alcune analogie con la schema therapy che a sua volta è una terapia che è nata nell'ambiente vecchiano come la Libet è nata nell'ambiente del cognitivismo italiano e poi si è assorbito alcuni aspetti funzionalistici così la Libet diciamo che dal punto di vista storico la schema therapy però è nata in qualche modo troppo presto quando questo passaggio al funzionalismo non era del tutto chiaro infatti non a caso ci sono due fasi una fase in cui prevale lo schema e la fase più recente funzionalista in cui prevalgono i modes noi speriamo che anche perché siamo venuti in parte un po' dopo il passaggio dal vecchio modello dei contenuti a quello funzionalista sia meno come dire accidentato anche se poi non è facile fare questa operazione ecco questo in realtà noi riteniamo che c'era già un forte interesse funzionalistico in Sandra Sassaroli anche prima che collaborasse con Caselli e con me già nel suo periodo con Lorenzini c'era un forte interesse per il rimuginio che è un concetto strettamente funzionalistico e poi con il concetto di controllo e questo per dire qui vado un po' a concludere non so quanto tempo c'ho ancora se vuoi altri cinque minuti cioè adesso spettiamo le domande ma altri da tre minuti ne hai qualche considerazione su abbiamo visto le analogie tra temi e core beliefs e piani e coping strategies ma vediamo anche le differenze una core belief è soprattutto una definizione di sé che è disfunzionale nei termini in cui è sbagliata sono stupido non è vero un tema non è un solo una definizione di sé ma è soprattutto una sensibilità verso uno stato interiore che è oggettivamente avversivo e negativo come del resto purtroppo sono la maggior parte dei nostri stati interiori la nostra mente non si diverte a farci soffrire è più che altro la sua funzione una mente che ci dicesse va sempre tutto bene sì sarebbe anche divertente però in realtà ben poco utile in fondo un tossicodipendente è qualcuno che sta cercando di avere questo tipo di mente a noi leggere i giornali che ci danno sempre quadri abbastanza negativi della realtà non è il massimo del divertimento ma diciamoci la verità un quotidiano che uscisse tutti i giorni con il titolo va tutto bene dopo un po' comincerebbe dire vabbè ma che lo leggo affasto il giornale a parte che mi verrebbero dei grossi sospetti su un tale tipo di giornale sul sistema politico che ha un tale tipo di giornale la nostra mente è fatta per avvertirci che c'è qualcosa che non va è nata per questo perché non in qualche modo l'evoluzione ha messo accanto alle reazioni istintive quelle ponderate mentali e queste reazioni ponderate mentali non possono che entrare in azione in presenza di segnali negativi o meglio avversibili quindi un tema non è una errata valutazione di sé sono stupido ma una reazione rimuginativa a un segnale che è normalmente avversivo il segnale normalmente avversivo è c'è un esame da affrontare mi sento a disagio diventa un tema quando poi invece di prendere il segnale per un segnale cominciamo a rimuginarci su e diventa sono stupido ecco quindi c'è una ridefinizione funzionalista la mente non entra in rapporto diretto con la realtà ma passa attraverso un trigger emotivo percettivo e poi ci costruisce sopra se un ragionamento se questo ragionamento sarà economico e adattivo economico vuol dire che per essere adattivo non dobbiamo pensarci troppo il giusto che è poco allora diventerà un tema tollerabile e non condizionante se invece diventerà una definizione di sé catastrofica diventerà intollerabile e condizionante come vedete quindi c'è una forte commissione tra concetti di contenuto temi e funzionali rimuginativi il piano il piano è ciò che facciamo ma deve essere sempre qualcosa a sua volta di economico e flessibile se noi invece ancora una volta cerchiamo la soluzione definitiva rigida e eternamente applicabile diventa qualcosa di necessario cioè da usare sempre di assolutamente utile oppure nel caso più dell'ansia incontrollabile più forte non riesco a farne me non riesco a fare altro qui tornando un po' ecco qui sono già anticipato quindi ci sono degli errori non sono più errori logici come nel modello dei contenuti sono degli errori pragmatici disfunzionali non sono però dei deficit non sono delle lesioni ci sono altri modelli traumatici che dicono che i temi sono temi non per un errore di valutazione disfunzionale ma per una vera e propria debolezza intrinseca del sistema che può avvenire per carità non neghiamo ci sono delle persone particolarmente fragili vulnerabili gli stessi modelli traumatici ammettono che c'è una percentuale ma non tutti i pazienti sono così fondamentalmente però le riteniamo delle debolezze apprese per apprendimento appunto e non per lesione traumatica che si irrigidiscono la cui unica difficoltà non è una frustrazione primordiale che ha impedito il sistema di crescere ma semmai proprio il contrario la difficoltà a sopportare questa inevitabile frustrazione questo che probabilmente Sandra ha spiegato meglio di me prima e che in qualche modo ci condiziona tra l'altro per chiarire il termine Libet che prima diceva Sandra è un omaggio alla tradizione cheliana in cui Sandra è cresciuta il tema viene anche tra i vari modi in cui viene accertato è cosa non le piace in questo a partire dalle situazioni questo proviene dalla vecchia tradizione della psicologia dei costrutti personali di Kelly che quando doveva valutare un costrutto usava la domanda cosa le piace o non le piace cosa le piace quando era utilizzato nel marketing per valutare i desideri positivi delle persone nella terapia cosa non le piace il termine Libet viene dal latino piacere Libet e poi in qualche modo corrisponde a un acronimo e c'era anche una certa assonanza con CBT Rebet Libet eccetera ecco quindi il mistero svelato quindi il tema è cosa non le piace in questo e il piano è cosa fa che le dà un sollievo emotivo ma alla lunga non le aiuta forse più o meno abbiamo finito ultimissimo collegamento con quello che ha detto Gabriele nell'applicazione dei disturbi di personalità la Libet vorrebbe privilegiare gli aspetti tra virgolette positivi che vuol dire aspetti positivi gli aspetti che poi ho chiamato gratificanti e di potenziamento di empowerment che in qualche modo possono spiegare in termini funzionali le difficoltà di alleanza mentre nei disturbi d'ansia le disfunzioni sono rette da credenze negative cioè di evitamento di evitamento cognitivo è meglio che queste cose non le faccio perché non sono all'altezza oppure ci devo rimuginare in continuazione per controllare ma in qualche modo non riesco a smettere non riesco a fermarmi è più forte di me quindi non c'è una forte componente gratificante tutto questo è un dolore che mi indebolisce e non riesco a non fare altro non riesco a smettere di rimuginare i piani invece applicabili a disturbi di personalità c'è questo aspetto positivo gratificante per cui rimuginare controllare evitare ma soprattutto reagire aggressivamente quindi immunizzare in qualche modo mi rafforza mi gratifica e dove gratificandomi diventa molto più difficile rinunciarci e questo potrebbe spiegare le difficoltà di alleanza terapeutica e di relazione terapeutica c'è un aspetto positivo gratificante in questi pazienti in questa patologia che in qualche modo rende più difficile a questi pazienti rinunciare a questi tra virgolette sintomi ecco non è ancora un'impressione che il tempo è scaduto ma poi in qualche modo mi sembra di aver detto quello che devo dire non so se mi confermate che il tempo è scaduto mi fermo va bene abbiamo alcune domande sì anche per dare spazio alle domande quella sulla schema terapie è già un po' risposta e volevo solo aggiungere che nella schema terapie ecco c'era il vecchio errore che era della CB come nella CBT coping strategy si venivano considerate una specie di effetto collaterale del Corby-Lips quindi venivano un po' valutate così come nella nuova schema terapie la componente di comportamento di piano che in qualche modo era troppo messa in ombra dallo schema che somigliava molto ai vecchi schemi di Beck come credenze centrali invece nelle nuove evoluzioni di Arnold Ars con i mods in qualche modo i mods sono un cubo delle coping strategies internazionalistiche così come nella Libre i piani sono messi sulla stessa importanza dei temi ecco questa è la nostra innovazione poi le altre domande non so cose che dicono una domanda una che te l'avevano fatta all'inizio quando parlavi del fidarsi e diffidarsi chiedevano se il fidarmi e diffidarmi si può riconoscere solo nella relazione terapeutica e questo era nel momento e forse Sandra vuole la parola sì se vuole rispondere Sandra direi che sicuramente è un sistema abbastanza immediato la differenza poi lascio la parola nei sistemi psicodinamici dicono che si può riconoscere solo nella relazione i modelli cognitivi potrebbero dire che è un buon modo sicuramente è quello più a immediata disposizione ma non ha una specie di statuto metafisico privilegiato la relazione come unico modo per riconoscerlo questa è la mia risposta teoretica poi quella di Sandra sarà no 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 io volevo soltanto dire di togliere lo share screen che già siamo tutti lontani almeno ci vediamo in viso obbedisco immediatamente ma poi c'è una domanda per Gabriele perché c'era una domanda fino scusa Daniela no va si può applicare la terapia metacognitiva beh noi a oggi abbiamo degli studi di applicazione i primi con i bambini con disturbi ansiosi a partire dai sette anni circa ci sono le prime prove platiche di applicazione in età evolutiva attorno a quest'area personalmente credo che non sia particolarmente complesso anzi la complessità deriva se c'è se c'è una sottospecie di popolazione con cui può essere più complesso come poi diceva Giovanni anche prima la popolazione di gli intellettuali adulti estremamente adesi all'importanza al valore della ruminazione del pensiero in termini identitario ma i bambini sono molto più flessibili da questo punto di vista ovviamente modulando gli strumenti e le modalità comunicative per renderlo più giocoso accettabile comprensibile tornando invece a una domanda che avevano fatta Giovanni era se possiamo individuare delle relazioni tra temi e piani e falso sé sì il falso sé per quello che ho capito l'ho trovato soprattutto qualche volta in Winnicott somiglia secondo me il falso sé per quello che ci ho capito in Winnicott somiglia più a un piano che è un tema anche se sembrerebbe un tema ma in realtà è un piano cioè è una persona che agisce in maniera rigida nascondendosi perché non vuole rivelare questo famoso vero sé che in termini libert lo chiamerei un eccessivo timore del proprio tema che è sempre il solito problema per cui invece di usare il tema come giusto come segnale per entrare in momenti avversivi della realtà e gestirli lo evito è qui quel falso sé insomma detto in termini più semplici sentirmi vulnerabile sentirmi criticato non deve essere un limite deve essere anzi il giusto strumento che ho a disposizione anche per per fare questa relazione per parlare con gli amici con il partner con chi volete perché mi segnala i momenti di tensione che devo cercare di gestire se invece questo segnale di sentirmi criticato diventa un problema dolorosissimo ecco che allora il rapporto con gli altri diventa orrendo perché non sopporto la minima critica non è il massimo per fare delle relazioni non è il massimo per stare con un partner anzi sarò costantemente in uno stato di aggressività ecco il falso se oppure se vogliamo anche di perfetta di totale accondiscendenza come nel dipendente che è solo un'apparente quindi direi il falso se alla Winnicott per me somiglia un piano visto che come sono quello che sento ne ho paura uso qualcosa di falso però qualcuno probabilmente mi dirà che non capito niente di Winnicott e vabbè oggi alla sfuccia c'è una bella lezione su Winnicott di che ha fatto Saracino però è un piano cioè è un piano immunizzante se ci pensi bene sì sì a me se è un concetto poi il falso sede che dice il collega è quello di Winnicott perché i concetti in psicologia sono molto simili e molto usati da tantissimi teolici per esempio quella cosa di prima delle spinte e delle di tale Bern io non ho mai mai beh perché sono Bern I'm ok you are ok sono intransazionali però Anna vi chiede sempre sempre Anna dice le terapie psicodinamiche o quelle transazionali come mai vengono abbandonate subito non sono efficaci o non sono il percorso giusto lei ci sta chiedendo però questo è difficile no? sì mentre a voi una domanda che faccia a tutti nel senso che non credo chiede uno che chiede le tecniche le strategie della nuova ondata che pensate possono essere utilizzate anche queste molto vaghe molto anche le tecniche parla per Giovanni ho l'impressione che allora noi stiamo entrando in un nuovo era in cui un tempo pensavamo una tecnica la impari la leggiù che un po' sul libro e la fai che era un po' esagerato adesso stiamo andando in una nuova epoca in cui forse esagerando l'altra parte una tecnica la sai usare solo se fai un training fatto benissimo di vari livelli quindi qualche annetto eccetera eccetera forse un'esagerazione dell'altra parte però diventa molto più difficile una volta rispondere con questo possiamo usarlo e questo no perché la nuova domanda è cosa abbiamo il tempo di imparare in una sola vita di tutta questa congerie di tecniche per questo infatti la Libet vuole essere più che questo va bene questo no noi speriamo di mettere insieme man mano essendo una formulazione del caso è un razionale dei trattamenti mettere insieme una massa critica di colleghi che conoscono un po' di tecniche ce ne sono alcuni di noi che sanno la schema terapia noi io e Gabriele conosciamo bene la MCT la REBT qualcun altro fare una task force che trasformi la Libet in un indicatore per le varie più che tecniche oramai stanno diventando delle procedure complesse non sono più singole tecniche che usi per mezz'ora in mezza seduta infatti per esempio Sandra mi manda molti pazienti a fare la MCT mentre 10-15 anni anni fa avremmo fatto in maniera diversa 10-15 anni fa ma non è un problema si faceva così mi avrebbero detto fai un pezzetto MCT con la tua terapia adesso invece Sandra fa diverso mi manda un paziente a fare 5 sedute MCT nessuno più direbbe fagli un paio di interventi MCT durante la tua terapia forse diventa eccessivamente specialistico però ora adesso la fase è questa voglio dire una cosa invece sulla domanda Diana le terapie psicodinamiche transazionali come mai vengono abbandonate subito allora esiste la terapia transazionale è una vecchissima terapia credo che Bern abbia scritto le sue cose negli anni 60-70 l'unica cosa è che nel momento in cui le terapie venivano sottoposte a ricerca loro sono rimasti indietro però le metafore Berniane sono delle metafore che vanno benissimo dentro una terapia cognitiva era una sorta di terapia cognitiva più semplice che non fu sottoposta a ricerca ma io ho conosciuto terapisti transazionali molto bravi sulla psicodinamica io ho invitato nella mia lezione un mio amico analista della SPI e ha fatto una bellissima una bellissima lezione e lui ha detto che ci sono proprio non è che le terapie psicodinamiche vengono abbandonate non è opportuna la terapia psicodinamica se si ha un disturbo ossessivo compulsivo appunto non è opportuna cioè è un problema perché lì se uno ha dei disturbi su cui esistono studi d'efficacia che ci dicono che delle cose funzionano non vedo perché no è come se noi dicessimo ho un tumore alla mammella ma voglio prendere la cicoria perché la cicoria aiuta molto però questo non vuol dire che la terapia psicodinamica in sé è completamente da buttare perché ci sono molte cose come anche diceva Giovanni sulla terapia psicodinamica che hanno a che fare con l'apprendimento che noi abbiamo fatto da quel mondo di come si gestisce il rapporto con il paziente certe sensibilità che anche noi cognitivisti abbiamo acquisito e poi che se io non ho un sintomo ma ho un vago dolore esistenziale nessuno mi impedisce e anche a una mia amica non lo sconsiglierei di fare una terapia una lenta terapia la metafora che diceva Carrizazzi era bella perché lui diceva è come se io avessi un corridoio ci sono porte a destra porte a sinistra e tu cominci un'analisi e non sai bene a che porta arriverai ecco questo quindi lo vedete c'è un aspetto esplorativo di vaghezza di questa terapia anche di profondità e curiosità di conoscenza che secondo me è proprio un'altra applicazione è come un'area di applicazione diversa per cui io ci sono dei pazienti che mi fanno delle domande esistenziali e che mando da qualche mio amico analista minimamente con del discernimento ecco ho risposto ok io direi di passare all'ultimo intervento quello della dottoressa Brugnoni che ci presenta il centro clinico quindi cliniche italiane di psicoterapia Modena sui disturbi di personalità ok arrivo vedete sì ok quello di cui appunto vi parlo in conclusione di questa giornata è un po' per spiegarvi cosa all'interno di studi cognitivi abbiamo strutturato nel corso di questi anni abbiamo strutturato quello che è un centro intensivo per i disturbi di personalità questo centro per i disturbi di personalità prevedono prevede un intervento gruppale per le persone che accedono al centro e un intervento di gruppo anche per i familiari il percorso che proponiamo è un percorso intensivo nel senso che ha una durata di tre mesi che prevede un impegno dal lunedì al giovedì fitto diciamo dalle 13.30 alle 18 è un percorso intensivo dal lunedì al giovedì dove il paziente svolge attività totalmente di gruppo il venerdì invece c'è un momento individuale e la possibilità di fare una consulenza psichiatrica se la persona non ha un referente psichiatra e si valuta che ci sia questo bisogno e proprio il venerdì c'è il momento invece il percorso dedicato solo ai familiari quali sono i nostri modelli di riferimento con i quali abbiamo strutturato il percorso di certo l'elemento la teoria e l'elemento centrale di tutto il nostro percorso fa riferimento alla geria dialettico comportamentale della mascia linea in quanto è il primo modello ad essere stato dimostrato efficace nella cura dei disturbi della personalità quindi le attività di gruppo che vengono svolte al nostro centro fanno riferimento ai quattro moduli che fanno passo alla teoria dialettico comportamentale che hanno l'obiettivo quello di andare a ridurre quella che è la vulnerabilità emotiva dei pazienti andare attraverso delle abilità che verranno potenziate descritte fatte comprendere al paziente andare a migliorare quell'area della regolazione emotiva quindi sono gruppi finalizzati proprio ad apprendere abilità per quanto riguarda riuscire a denominare a descrivere ad osservare a dare una giusta gestione nel senso di utilità delle varie emozioni del migliorare le relazioni con le altre persone quindi abilità che mi permettano di poter essere capace di avere un dialogo assertivo capace di poter raggiungere dei compromessi con le altre persone mettendo in luce quelle che sono poi sempre le credenze le emozioni che ogni interazione crea l'altro modulo su cui si strutturano le terapie di gruppo è legato alle abilità che vanno a potenziare la capacità del paziente di tollerare le emozioni quando arrivano a un livello molto intenso senza dover agire in una maniera impulsiva o mettendo in atto dei comportamenti disfunzionali che andrebbero ad aumentare la loro vulnerabilità emotiva poi c'è anche il modulo della mindfulness che è l'elemento trasversale in realtà a tutti i moduli appunto precedenti in quanto alla base c'è l'aspetto del accettare quello che ci sta capitando accettare e denominare l'aspetto delle mie emozioni soffermarmi su quello che sto sentendo su quello che sto pensando senza dover agire l'altro elemento di gruppo che noi facciamo sui familiari ha due riferimenti validati quello del modello di Gunders o della multifamily group e la tbt family skill training di Fronzetti e Svensson questo modulo è appunto aperto solo ai familiari o comunque a figure supportive per la persona e ha lo scopo proprio come alla base dell'adbt dell'andare ad agire sull'ambiente invalidante quindi con i gruppi diciamo sulla persona andiamo ad agire sulla parte del spiegare che c'è un aspetto biosociale come abbiamo detto fino adesso di un temperamento che però viene a integrarsi di incidere con un ambiente invalidante che strutterebbe questa disregolazione emotiva quindi è fondamentale per noi all'interno di questo percorso creare questo spazio costante anche per i familiari al fine proprio di aiutare i caregiver ad acquisire sempre di più conoscenze e strumenti su che cos'è la problematica del figlio del marito eccetera e andare ad insegnare anche bene cosa si intende per le caratteristiche di quei pazienti con disturbo di personalità in particolare nel boster e quindi cercare di insegnare anche delle abilità per che cosa fare nei momenti di crisi o come meglio comunicare con il paziente come meglio affrontare i momenti di rabbia e quindi dare degli strumenti al fine di creare un clima più sereno rispetto e validante rispetto a prima gli altri all'interno del percorso prendiamo come riferimento quello che è stato detto fino adesso anche del modello di Adrian Wells appunto perché abbiamo inserito un gruppo tutto centrato sul intervenire sui processi di regolazione cognitiva che non fanno altro che aumentare la disregolazione emotiva quindi andiamo a far riconoscere a rendere consapevole il paziente che sta rimuginando che sta ruminando vederne le valutazioni le metacadenze positive le metacadenze negative i costi che hanno queste strategie in funzione di che tipo di intensità emotiva poi alla fine crea e quindi andare a ridurre quelle strategie diciamo maladattive legate a un rimugino più ansioso legato al timore di essere abbandonato rifiutato una ruminazione depressiva legata a un'autocritica e un'autocommisurazione costante una ruminazione rabbiosa legato al tema fondamentalmente di ingiustizia e dover trovare per forza l'elemento che va che ha creato l'ingiustizia appunto con pretesi di cambiamento dell'altro quindi l'obiettivo è proprio quello di andare a ridurre delle strategie di coping maledattive e aumentare sempre di più nel paziente della consapevolezza di questi processi e quindi acquisire abilità specifiche per gestirle e quello che facciamo all'interno appunto del percorso è seguiamo le linee guida regionali per i disturbi della personalità e dell'AFA il nostro centro è formato da quattro psicoterapeuti da due terapisti della riabilitazione e appunto da uno psichiatra e prevede la costante collaborazione con gli invianti dei pazienti nel senso che possono arrivare al nostro centro per iniziativa personale la persona e quindi si valuterà se è il caso che faccia una valutazione psichiatrica o meno e che inizi comunque un percorso individuale oppure l'accesso può venire da un collega da uno psicoterapeuta o da uno psichiatra con i quali appunto per tutto il percorso dei tre mesi verranno mantenuti costantemente dei confronti anche insieme al paziente e ai familiari e verrà restituita all'inviante una relazione perché la nostra presa in carica parte dal colloquio preliminare appunto con la persona e con la famiglia se necessario e poi una valutazione testistica ovviamente una scid ma anche tutti i test per andare ad osservare maggiormente l'aspetto della disrevoluzione emotiva della rabbia un test specifico per quanto riguarda l'area border quello surrimoginio e viene anche utilizzata la libet come concettualizzazione appunto del caso e anche utilizzando i momenti che strutturiamo a livello individuale sono altro che una rivalutazione della formulazione di questa concettualizzazione e rivedere nel corso del tempo l'andamento appunto della della tollerabilità dei temi della modifica appunto dei piani il trattamento appunto come dicevo prima è di tre mesi alla fine di questi tre mesi facciamo un colloquio appunto col paziente con i familiari con l'inviante nel valutare qual è l'evoluzione successiva nel senso possiamo proporre il fatto che dopo i tre mesi effettivamente il pezzo diciamo più acuto è stato svolto e c'è una fase diciamo post che è caratterizzata invece magari da solo due attività di gruppo e continua appunto il percorso comunque fuori se c'era oppure all'interno individuale e vengono valutati poi alla fine vengono effettuati dei test a tre mesi poi a sei mesi e un anno del trattamento questo è il piano concreto di quello che effettivamente facciamo quindi i pazienti svolgono due volte alla settimana i gruppi dell'adbt e si alternano quindi gli incontri sulla regolazione emotiva sull'efficacia interpersonale sulla tolleranza alla sofferenza invece rimane fisso per ogni settimana il gruppo della mindfulness e a cui appunto come dicevo prima abbiamo aggiunto all'interno di questo percorso il gruppo metacognitivo e il venerdì appunto hanno questi momenti individuali dove in cui appunto monitoriamo il suo funzionamento attraverso proprio la concettualizzazione libera c'è un momento di pausa e cosa fanno poi successivamente i pazienti il venerdì come dicevo prima c'è solo il gruppo poi con i familiari mentre negli altri giorni i pazienti dopo la pausa dalle 4 alle 6 grazie a delle tecniche della riabilitazione non fanno altro che mettere in pratica attraverso i role playing attraverso delle simulate attraverso degli esercizi immaginativi attraverso quelle che sono le schede di lavoro proprio dei gruppi della DBT quello che hanno imparato precedentemente nel gruppo proprio perché l'aspetto della ripetizione l'aspetto dell'insieme dell'esercitare queste nuove pratiche tra loro li motiva e effettivamente sperimentare che cosa succede nel cambiamento delle loro strategie in un ambiente che è più protettivo e vengono fatte settimanalmente le riunioni di equip questa è totalmente la nostra equip formata e questi sono i nostri contatti quindi noi in questo momento stiamo strutturando e costruendo il nuovo gruppo che partirà e siamo contenti nella realizzazione di questo percorso ovviamente se avete interesse nel valutare di collaborare con noi con i vostri pazienti che pensate possono avere un beneficio dal nostro intervento più che disponibili tutti ovviamente a collaborare grazie Alessandra ci sono domande su questo la domanda è chi perviene fuori regione se ci sono convenzioni situazione residenziale cioè fa un po' di domande generiche attualmente in regione Emilia Romagna non sono previste convenzioni no al momento questo è un servizio privato non ci sono convenzioni ma di là che sia un servizio privato in altre regioni ci sono delle opportunità in questo momento almeno cioè no nella realtà dell'Emilia Romagna non sono previste l'età adesso questa rispondi tu Alessandra l'età noi abbiamo preso come fascia dai 18 anni nel senso dove è possibile effettuare già una diagnosi fino ai 65 tendenzialmente abbiamo avuto pazienti fino a quell'età e quindi il range è questo abbiamo come unico criterio fondamentalmente di esclusione quando c'è un abuso di sostanze attivo continuativo nel senso che impedirebbe alla persona proprio di partecipare di poter essere capaci se c'è un abuso come fanno parte diciamo come comportamento disregolato ovviamente non ci sta e lo prendiamo senza problemi non deve essere costante ancora la di dire che il progetto è interessante nel senso che più che essere l'altro chiedono se è una situazione residenziale cioè non è un centro residenziale ma noi l'abbiamo chiamato un ambulatorio intensivo pomeridiano la domanda che ti fanno è possibile fare esperienza formativa col vostro gruppo di lavoro rosaria si manda un'email e poi si va diciamo che abbiamo molti triocenti rispetto alla scuola però come osservatori però sì abbiamo già la lista però chiedi solo l'email quanto incide questa è una domanda che secondo me Alessandra è interessante che è il modello della multifemini quindi quella ci chiede Luigi quanto incide per la riuscita della terapia l'intervento sulla famiglia noi lo mettiamo come elemento obbligatorio tra virgolette nel senso che proprio anche a partire dalla dalla teoria appunto su cui fa riferimento la marcia linea c'è proprio l'aspetto della combinazione cioè l'elemento patologico della disregolazione emotiva nasce quando c'è questa interazione tra un temperamento ma ci deve essere l'ambiente invalidante quindi è ovvio che più partecipano e più aiutano anche la la persona a poterne venire fuori e attuare abilmente a mettere in atto diciamo delle abilità che possono essere capite all'interno di un percorso se sanno bene la diagnosi se sanno che cosa appunto prevede se imparano anche loro a non contro reagire creando appunto lotte o mettendo in atto semplicemente dei comportamenti disfunzionali che impediscono anche con tutto il lavoro che magari la persona può fare di affaticare più che altro e non riuscire quindi è molto importante per la riuscita in realtà poi non è detto che vengano magari i genitori nel senso che adesso una persona vive col proprio fidanzato è più utile che venga se vogliamo anche la persona che attualmente sta con se non sono disponibili o comunque le persone che sono significative ok ci sono domande sempre se vuoi dire a tutti così tu allarghi anche rispetto al materiale così lo dici a tutti chiedi il materiale per i mail sì il materiale adesso ve lo manderemo attraverso la mail la registrazione come dicevo prima sarà poi presente sul canale di youtube di state of mind c'era un'altra domanda che diceva quali sono le regioni che hanno una convenzione sì lì è molto difficile una risposta non te la possiamo secondo noi dare ti so dire per l'Emilia Romagna so che dipende dal tipo regione di strutture e che ogni regione la sanità è regionalizzata per cui non te lo possiamo dire è una sanità nazionale ma poi sono le regioni che hanno applicano le loro normative altre domande se no come avviene l'ingaggio dei familiari noi lo facciamo allora se la persona viene singolarmente prima appunto il colloquio lo facciamo solo con la con la persona poi facciamo noi proprio il primo incontro anche con i familiari sottolineandoci proprio l'importanza che loro hanno cioè vedendole come quasi motivandole come un aiuto per noi per aiutar meglio poi il proprio figlio il proprio parente o meno quindi come un alleato motivandolo proprio nell'idea che siamo tutti che noi li vogliamo come alleati quindi che è fondamentale e soprattutto sottolineando che anche all'interno dei gruppi che vengono fatti per i familiari non c'è appunto un aspetto del dover accusarsi quindi non ci sarà magari come molti si aspettano che quindi tendono a non voler partecipare l'idea del essere accusato adesso mi daranno le colpe o meno perché è un aspetto proprio di comprensione invece delle dinamiche che tendenzialmente vengono ci sono in questi disturbi e quindi anzi di vederlo come semplicemente una modalità proprio per rendere più efficace il percorso che fa il loro figlio il loro parente o altro quindi li ingangiamo e anche nei vari momenti al di là di quel gruppo singolo dei vari momenti di verifica se il paziente poi è d'accordo non li rinviettiamo ugualmente con loro come anche modo per darci un feedback di quello che sta succedendo quindi li teniamo proprio come fossero molto alleati e quindi come collaboratori con noi di cui abbiamo bisogno il feedback per tutto il percorso ok io chiedo i partecipanti se avete qualcosa a voi relatori se avete qualcosa per chiudere questo pomeriggio ringrazio tutti intanto tutti i partecipanti super molto numerosi e che ci hanno seguito in tutte le quattro relazioni e se dottoressa Sassaroli dottor Caselli dottor Ruggero avete qualcosa per chiudere il pomeriggio molto volentieri provocazione e muta Sandra Daniela tu hai risposto a tutte le domande sì io ho risposto sono stata pedestre precisissima devo dire che molti ci hanno ringraziato e ringrazio anche loro che hanno valorizzato e sono stati contenti delle varie relazioni e per cui e per quello che chiedo voi se volete avete una qualcosa da chiudere qualche riflessione io una cosa l'avrei da dire o io o Gabriele sono sicura che stiamo pensando alla stessa cosa che in realtà questa cosa di fare in alcuni luoghi vicino alle nostre scuole di terapia dei centri ambulatoriali intensivi a Milano sui disturbi alimentari probabilmente anche a San Benetto il trotto lo faremo sulla psicopedologia dei bambini a Modena abbiamo questa sperimentazione l'ambulatoriale intensivo è una formula molto interessante perché consente alle persone sofferenti di lavorare di andare a scuola a scuola di andare ma da una possibilità di curarsi in un modo più protetto che un ambulatoriale normale e questo mi sembra una grande sfida noi abbiamo proprio l'intenzione di fare questa sfida in generale e diffonderla in Italia ecco volevo dire questo tu Gabriele? sono completamente d'accordo anche perché credo che siano degli ottimi contesti entro i quali forzare la definizione di standard per la cura ci mette anche nella condizione e mette tutti noi nella condizione di lavorare ancora meglio quindi credo che sia anche un'occasione di crescita per tutti va bene quindi dica dottorizio Saroli le ho tolto la parola no mi sembra che scusa se ti ho tolto la parola mi sembra che sia stato interessante e anche ringraziamo molto chi ci ha seguiti e speriamo di sentirvi e vedervi ok grazie a tutti e buona serata allora arrivederci alla prossima grazie